Tre teste per un cerviru, c'è spero Troppi goblin in questo mondo Non sarò un cloche Né tanto me non devi Perchè ogni giorno Guarda C'è spero Guardami il segno Guardami il segno Guardami il segno Stanno arrivare Hello Closhards E benvenuti in questa nuova trasmissione Diamo inizio a questa nuova settimana Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite di oggi Rayden per la prima volta qui con noi Buonasera buonasera è un onore essere qui Grazie per avermi invitato Ho visto una sigla un po' strana Ho sentito una sigla un po' strana C'era la scala leggermente sbagliata credo E qualcosina di strano sì Poi magari Non lo so non ho avvertito differenze Normalissima Sì più o meno Senti ma effettivamente è strano che tu non sia mai venuto ospite Porca troia regà Me ne sono reso conto stamattina Ma perché è vero? È strano sì però lo vogliamo dire che in realtà Ci avete invitato diverse volte Solo che noi ogni volta abbiamo detto Sì adesso adesso facciamo Adesso vediamo E poi ogni volta è saltata Per cui insomma Vabbè finalmente c'è un'occasione Quanto meno di parlare di qualcosa Ci saranno magari anche altre occasioni Sarà un piacere Bene bene allora Tra poco entrerà anche Powerone Nel frattempo introduciamo un attimo il discorso Chiaramente parliamo del servizio del Tg1 Sui videogiochi Ha fatto un po' scandalo L'associazione con la droga Eccetera Dacci una premessa Poi magari lo vediamo insieme Almeno un pezzetto Aspettiamo un attimo Giorgio E soprattutto ti leggo anche una domanda Dopo l'introduzione che ci farai Secondo te Perché tutte le volte Che la televisione parla Di questo mondo Del nostro mondo Lo fa in questa maniera Oppure siamo noi Troppo permalosi E dobbiamo Ci sentiamo in dovere Di dire la nostra Ma in realtà Non ne parlano sempre Troppo a sproposito Cioè effettivamente L'argomento della dipendenza Da videogiochi È qualcosa che È concreto Esiste Anche l'OMS Diciamo l'ha riconosciuto Tra le patologie Il punto è che Si tende ad enfatizzare Un po' troppo E quindi esagerare Per creare Un po' di sensazionalismo Però finché È un servizio del Tg1 Di Mediaset Di quello che è Noi Possiamo anche ignorarli Perché tutto sommato Sono servizi giornalistici Che lasciano il tempo Che trovano In questo caso È trattato Di una proposta Di legge Avanzata dal senatore Cangini Di Forza Italia Che parte da basi Decisamente esagerate Cioè lui Ha preso il concetto Della dipendenza A videogiochi Sostenendo che L'uso Non può che Degenerare in abuso E questo già È una premessa Sbagliatissima Attuale Perché questo Vorrebbe significare Che sostanzialmente Chiunque fa uso Di qualsiasi cosa Cioè in questo caso Dei videogiochi Ma in generale Del web Dei social Non può che far Degenerare Quest'uso In un abuso Che è una premessa Totalmente sbagliata Altrimenti saremmo tutti Dipendenti Invece I dipendenti Da Cioè quelli che hanno Una dipendenza Dei videogiochi Patologica Così come dal web Dai social Da qualsiasi cosa Alla fine Perché si può avere Dipendenza da qualsiasi cosa Che generi assuefazione E Sono comunque Una minoranza E quindi L'assunto di base È proprio sbagliato E allora perché è successo Quello che è successo A Marco Merrino Io Non ho visto il video Però so che Vabbè Lui ha voluto fare Diciamo Questo senatore Ha visto il video Non lo so Esatto Esatto Sì può essere Può essere Sì È una cosa Che può succedere Attenzione Però Il problema è che Non bisogna Generalizzare Ma soprattutto Non esagerare la cosa Non calcare la mano Perché altrimenti Come detto Si parte da un assunto Sbagliatissimo Per cui Tutto fa male E non invece L'abuso Sappiamo che Appunto L'abuso Di certe cose A far male Poi ci sono Certe cose Che si fanno piacere E fanno male Anche in quantità Più piccole Quindi conviene Non iniziare Completamente Assolutamente Però Nel caso I videogiochi Se fosse così Pericoloso Così come Per il web Per i social Saremmo veramente Tutti spacciati Quindi è una situazione Abbastanza Incresciosa E la Diciamo Le affermazioni Del senatore Guarda In questo caso Guardate Non so Dove volesse andare A parare Probabilmente Creare sensazionalismo Per Cercare Di incuriosire Di più Su quello Che è il suo libro Quello indubbiamente Credo anche Il target In questo caso Elettorale A cui si rivolge Sì Ecco Poi c'è anche Questa cosa Perché qui si mischia Come hai giustamente Detto tu La politica No Al di là del servizio Del TG1 O altri Che abbiamo visto Nel tempo Come Quello di Report Anche suscitò Un po' di casini Vabbè Le iene Con i vari soldi I guadagnati Dagli youtuber Però le iene Ormai ci sorprendono poco In questo caso C'è un discorso politico Ben più serio Non si tratta solo di Disinformazione Informazione Parziale Ma guarda C'è sta pure Una bella notizia Se ci pensiamo bene Secondo i miei calcoli La maggior parte Delle persone Che dicono queste robe Entro 20-30 anni Saranno tutti morti 20-30 Sì Facendo un breve calcolo Sull'età Quindi insomma Su livello statistico Sì Sì Piccola informazione 50 dici Quelli che la pensano così Entro 20-30 anni Sono tutti morti Sì Significa che Sono persone Che stanno Di quell'età Vabbè ragazzi Si chiama cambio Generazionale Non ho detto Nulla di male È l'esatto processo Della natura Anche noi Tra una cinquantina D'anni Non ci saremo più Chi più Chi meno Però il discorso È questo È questo Che come ha detto Marra Effettivamente Secondo me C'è anche una Da parte loro Soprattutto del senatore In questo caso C'è una percezione Del medium televisivo Per la serie Vabbè Tanto chi lo deve vedere Lo deve vedere Soltanto quel pubblico A cui mi rivolgo io E invece Noi siamo attenti Anche a queste cose Perché Non è che siamo Come la televisione Facciamo come la televisione Che ce ne infischiamo Del web Perché sostanzialmente C'è un rapporto Di competizione Con quest'ultimo E quindi Cercano di ignorare Certe belle cose Che si fanno nel web Così come tante cose Non necessariamente bellissime Noi invece Siamo attenti Anche a queste cose Creano argomenti Di discussione Sia nel bene Che nel male Abbiamo parlato Anche di servizi Fatti bene In passato Attenzione Quindi In realtà Noi siamo vigili Su queste cose Lo siete voi Lo siamo noi In questo caso Perché Diciamo Tangeva l'ambito Dei videogiochi Ma Ecco Siamo qui a discuterne Senza freni Senza Senza Patemi d'animo Fortnite Di gasolari Non so se ti ricordi No? Sì ecco Anche quello Anche allora Avevamo ricevuto Una risposta Perché adesso Non so se avete visto Però io nel secondo video Che ho fatto Ho evidenziato La risposta Che lui ha dato In maniera indiretta A noi Cioè lui ha detto E voi vi fidate Di due youtuber Simpatici ragazzi Cioè ci ha definito Simpatici ragazzi A me e Midna Io ho ringraziato Per il simpatici Ancora di più Per il ragazzi Che parlano Di videogiochi Sponsorizzati Dalla nintendo Attenzione Perché c'era Midna Con la maglietta Di nintendo new york Che abbiamo acquistato A new york E è costato Pure assai Quindi voglio dire Pagati 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 Esatto Pagati E capisci Capite che in questi casi C'è proprio una Una tendenza A rincerarsi dietro Le proprie opinioni E non ascoltare Quelle degli altri Bene bene Diamo il benvenuto Anche a Un simpatico ragazzo Sponsorizzato Effettivamente Da un brand importante Noto Per la sua grande performance Nel piccolo cortometraggio E te con quel cappello E te con quel cappello Bellissimo Come state ragazzi Mamma mia Bello Giorgione Ma siete preparate Questa farida No mi sa che è sbagliato Era per stasera Questa era per stasera Non ha un jet privato Un jet privato Era un'altra cosa Tu come stai Giorgio Jet privato chi è? Tutto bene Tutto bene Sto mangiando io nel mentre Spero che non vi dia fastidio E comunque stavo sentendo Il discorso di radio Non ho visto pure il suo video Ieri sera tra l'altro Ho visto proprio La risposta Se posso dire Seccata addirittura Sembrava Del senatore Che Non capisco Io la cosa che mi chiedo È Cioè che Io Se avesse avuto l'opportunità Di poterci fare Uno scambio di parole Sarebbe stato Ma le fonti? Ma il discorso è che lui Le fonti le ha Le ha citate Il problema è che Sono riportate poi In maniera approfondita Nel suo libro Cioè lui Ha citato i nomi Ha fatto l'elenco dei nomi Nella descrizione Del suo libro Non l'ha fatto in trasmissione Non l'ha fatto neanche Sui suoi social Quindi su twitter Non si può trovare niente Nel libro Quindi è un po' come dire Compratevi il libro Se volete approfondire la questione E magari Lo farò anche Cioè magari Leggerò anche il libro E attenzione Però Scusa per farsi pubblicità Che coraggio Comunque Capisci Non è Non è Non è il modo giusto Per approcciarsi Soprattutto a chi Non è che voglia Necessariamente Difendere a spada tratta Questi media Però Che ha Come noi Qualcuno che ha da dire La propria opinione Dopo aver sentito Una Delle dichiarazioni Così esagerate E poi se andate a vedere Il disegno di legge La proposta di legge Non si parla mai Di videogiochi Quindi lui ha voluto In un certo qual senso Secondo me Triggerare No possiamo dirla così Cioè Cercare di aizzare Un po' la nostra reazione Con quello che ha detto In trasmissione Poi andando a vedere Il disegno di legge Si parla soprattutto Di parasocialità E quindi Dei ragazzini Degli adolescenti Che non Cioè che dovrebbero avere Dei limiti Per quanto riguarda I social E il web Che è tutto sommato Se vogliamo Un qualcosa Di anche condivisibile Ma per come l'ha posta lui In trasmissione Era devastante Tra l'altro Con un'intervista Che ha fatto Un ragazzo Un giovane In un centro di recupero Giovane che aveva 48 anni Voglio dire Insomma Insomma Posso dire però Che la copertina del libro È bellissima Quale libro? Sì Del libro di cui stiamo parlando Sembra uscita Sembra uscita Tipo da un disco Brutal Deathcore Del 2018 Sì 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 È fighissimo Ma due E quello che dice Raiden È vero Nel senso che In questo modo Con questo tipo di comunicazione Si va anche A buttare fango Su problematiche esistenti Invece che Invece di parlare seriamente Di problemi legati Alla dipendenza Poi ho sentito Anche nel mezzo Citate cose Non propriamente Calzanti Come gli Kikomori Abbiamo parlato più volte Anche con Marco Repaldi Ma lui stesso Ci ha spiegato Che la ragione Alla base Dell'isolamento sociale Non sono I videogiochi Non è il web Di per sé Ma c'è un disagio Alla base Che poi viene Eventualmente Colmato con quello Ma resterebbero Comunque a casa Questo è sempre Quello che ci ha detto E che resta a casa Tutto il giorno A guardare la tv Tipo i boomer Non gli sarebbe Mettere un limite Pure a loro Quello va benissimo Perdere l'intera giornata Succare alle 5 Sì sì Ma comunque C'è una cosa Che si può dire Che è condivisibile Almeno Da una parte Bisogna dire Che esiste Il disturbo da videogiochi Cioè è stato riconosciuto Ufficialmente nel 2018 Nel 2019 È stato steso Dall'OMS Che è l'organismo mondiale Per la sanità Un dei parametri Con cui si può Misurare O cercare di capire Se si ha questo disturbo Da videogiochi Perché E meno male Esiste Perché così Classifichiamo Precisamente Chi è che ha il disturbo E chi invece Semplicemente È un appassionato Che si trattiene Si intrattiene Per qualche ora In più Ok Che magari dovrebbe Vogliamo dirla Alla boomer Spendere meglio Il proprio tempo Però alla fin fine Non è veramente Dipendente dai videogiochi Cioè ci sono dei crismi Dei criteri Con cui si classifica Colui che è dipendente Davvero Esatto Ma infatti Questa qua è una cosa Fondamentale Che bisogna E bisogna anche capirne Poi le cause Perché ci sono un sacco Di parametri Come vengono dettati Dall'OMS Per misurare questa cosa Però esistono anche Tante cose Come diceva Marra Ci sono dei problemi Pregressi Molte volte Una cosa su cui Però mi trovo Secondo me Non a favore Però dico Che posso capire La motivazione Di fare questo libro Vuoi per pubblicità Vuoi per sfruttare Il momento Tutto quello che vuoi Però il fattore Quello Allora Quando parlava Del fattore cui Personalmente Mi è sembrata Un pochino Una barzelletta Quella cosa Perché Misurare il cui Di una persona Non si intende Poi sempre L'intelligenza Di quella persona Esistono ragazzi Che soffrono D'autismo Con cui elevatissimi Che magari Non sono capaci Di fare le cose Più banali O anche il contrario In determinati casi Autismo ad alta funzionalità Tipo l'Asperger Esatto Però Per una cosa Mi trovo d'accordo Anzi Vorrei saperlo pure Dalla chat Perché io avevo fatto Questo esempio Io non so se Nell'ultimo periodo State leggendo Qualche libro Ma mentre leggete un libro Vi è mai capitato Di leggere il libro E mentre state leggendo Il vostro cervello Non sta più capendo Quello che state leggendo E sta volando Su altri pensieri Che può essere E devi tornare indietro E devi tornare indietro E rileggerti una cosa Cioè Quanto di voi Capita questa cosa A me pure è capitato Alcune volte Questa cosa Ma perché Siamo bombardati In informazioni A duemila Le stories di Instagram Credo che nemmeno Io le guardo Per quindici secondi E vado avanti È normale Siamo bombardati In informazioni È come se Piano piano Tutti ci sta venendo La DHD Praticamente Come cose Non credo che sia Per colpa Dei videogiochi O comunque Del web in generale Però io se devo dire Una cosa Col senatore Io mi sono trovato D'accordo su una cosa Il fatto Perché lui parlava Durante pure Parlava di vari argomenti No Disturbo di videogiochi Dei videogiochi L'abuso di questi Il fatto che Viene rilasciate sostanze Come quando si fa Di cocaina Vabbè tutta sta roba Però Per esempio C'era una parte Su cui mi trovo D'accordo E il fatto Di quando Trattava Dell'anonimato Del fatto Che non c'è niente Che Tu su internet Sei Puoi essere chi vuoi Puoi nasconderti Dietro qualsiasi cosa Puoi far perdere Addirittura le tue tracce E io ne ho viste Di cose che sono successe Su quello Mi sono trovato Abbastanza d'accordo Perché credo Che debba essere Tutto regolamentato E strutturato Capisco la privacy Capisco tutto Ma ci sono situazioni Come Telegram C'è stato lo scandalo Della pedopornografia Ragazzi Qualche anno fa Se non sbaglio Che è uscito fuori tutto Che hanno cambiato le policy E eccetera eccetera Sì E anche questo Aver messo Questo mappazzone Che lui ha fatto Aver messo in un calderone Tutti questi argomenti Che non ha deposto A suo favore A favore delle cose Anche buone Che lui ha detto No? Cioè Quello che dicevamo prima Il punto è che Per la legge Dei grandi numeri Quando fai questi discorsi Qualcosa di giusta La dici per forza Anche perché Sappiamo che esiste La dipendenza Tanto è vero Che lui poi In risposta Adesso su Twitter Ha scritto Eh però Se l'OMS L'ha riconosciuto Come dipendenza Se in Cina Hanno ridotto Drasticamente A tre ore L'uso Dei videogiochi Per gli adolescenti Per i minorenni E in Corea del Sud Stanno prendendo provvedimenti Un motivo ci sarà Vello mio Il motivo c'è E come se c'è Il problema è che Per come l'hai posta tu Cioè Non è quello Il vero motivo O perlomeno Non sono quelle le conseguenze Non è l'uso Che degenera Necessariamente in abuso Bisogna prendere Giustamente Con le pinze Ogni cosa E anche il discorso Della dipendenza Va trattato bene Perché sennò Come diceva Marra Si svilisce il problema stesso Che sta a monte Cioè uno si rifugia Nei videogiochi Non per rifugiarsi Nei videogiochi Basta perché sono piacevoli O quello che è Nei social Nel web In generale Ma perché a monte Possono esserci Dei problemi Molto più gravi Bisogna indagare su quelli E poi eventualmente Stabilire quali sono Le dipendenze Che derivano proprio Da un malessere a monte Perché altrimenti Non andiamo avanti Perché se no Se non fossero i videogiochi Sarebbe qualsiasi altra cosa Magari anche di peggio No? E la dipendenza Si cerca Quando c'è un malessere Di fondo Oppure si viene a creare Una dipendenza Si viene a creare Una dipendenza In alcuni casi Proprio perché Quella cosa è piacevole Ma c'è caso E caso Quindi non bisogna Generalizzare così Ed è una cosa Che il senatore ha fatto Sì sì Tra l'altro parlamo Anche brevemente Con Forchieli Del discorso Cina E l'imitazione Vai Giorgio Dici pure Poi vediamo Un pezzetto del servizio No io dicevo che Questo succede In un sacco di altri campi Danny mi fece Tanti anni fa L'esempio della palestra Che per alcune persone Succede che La palestra diventa Una vera e propria droga Per quello che rilasci Per come ti vedi L'appagamento Endorfine E tutto il resto Succede per tutto ragazzi Tutto portato all'estremo È troppo Certo È quando un qualcosa Ti impedisce Di funzionare bene Nella società Credo Cioè quando Che sia la droga Che sia la palestra Che sia nei videogiochi Ti scamma la vita Il cibo Il sesso Un sacco di cose Sì 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 Ok vediamo Un ottimo servizio Poi ragazzi Potete anche Dirci voi quando stoppare Se ci sono dei punti Che volete commentare Vai vai Sta generando molti timori Così come prima La pandemia Da cui non siamo Del tutto usciti Timori che si affacciano Soprattutto Su una generazione Un po' più vulnerabile Quella dei giovani Giovani che si aggrappano Poi in qualche modo Alla rete Ecco in questi due anni I dispositivi digitali Connessi al web Sono stati fondamentali Lo sappiamo Però questi due anni Ci hanno anche insegnato Quanto sia importante Anche la presenza fisica L'incontro fisico Tra le persone Gli spazi reali E allora Il web È pericoloso Oppure una risorsa Oppure tutte e due Le cose insieme Però serve regolamentare Negli anni 90 Forse Se tu aveva Stato mangi Ma poi due anni Chiuse a casa E ora il problema È il web Che se stavo L'importanza Che poi vedi Negli ultimi anni Guarda Vedete come introduce Introduce il problema Come a dire Perché c'è stata la pandemia Allo stesso modo C'è questo problema Già c'è un'equiparazione Del problema Dopodiché Parla di Del web Come risorsa Anche positiva Per quello che è stata La situazione Degli ultimi due tre anni Solo che poi Degenera Dicendo È pericoloso Oppure può essere anche E come avete detto E sembra un problema Degli anni 90 Questo web Che sta arrivando Nelle case Dei giovani Attenzione Il 56k Tra l'altro I danni Diciamo Della Disinformazione Digitale Si sono visti Anche Durante la pandemia Per cose Decisamente importanti Come La scuola Anche la disinformazione Che c'è stata Esatto Oppure In ambito lavorativo Che alcuni Settori Non erano pronti E quindi Siamo stati costretti Di fatto Ad accelerare Questo processo Proprio per Negligenza Chiamiamola così Windows 98 Nelle scuole Ancora Guarda negli ultimi due anni Quante fake news Sono uscite fuori La gente non sa Nemmeno Più informarsi O riconoscerle Queste Che è un problema enorme A mio parere Questo delle fake news Che viene usato Tantissimo Adesso nel giornalismo Perché pochissimi Comprano ora I giornali Ovviamente Quelli fisici Cartacei E molti si ritrovano A leggere Quelle sono le inserzioni Che trovi Specialmente su Facebook Vanno fortissimo E ragazzi Leggi certe castronerie A me negli ultimi due anni Mi è capito di leggere Notizie di Lercio E il fatto quotidiano Finire su roba Tipo Repubblica Corriere della Sera Io ero là Ma che Un controllino Lo facciamo Posso dire una cosa Raiden può fare Quello democratico Bravo Buono Io posso fare Quello stronzo E cattivo No Non posso fare così Perché io ho delle cose Veramente cattive Potete fare due stronze Ma fa appunto Esatto Simone Mi hai rubato le parole In bocca Io c'ho qualche cattiveria Che mi è uscita fuori D'ora pensandoci a me Prego prego Sei nel luogo giusto Guarda Giorgio Guarda che mi attivi Guarda che mi attivi A me Fa solo che piacere Io mi Quando continuiamo a sentire Escono fuori Non ti preoccupare Evil power Esce fuori Dai In studio Andrea Cangini Di questo parliamo Con lei Senatore di Forza Italia Componente Della commissione Istruzione al Senato Giornalista E scrittore Saluto romano Moda Andrea Di un Coca Web Questo volume E' una sintesi Un po' del lavoro Che avete fatto In commissione Istruzione Dove avete raccolto Delle testimonianze Importanti Di professionisti Specialisti Esattamente Abbiamo invitato I maggiori esperti Psicologi Neurologi Pedagogisti Grafologi L'importanza della scrittura A mano è trascurata Che hanno studiato L'impatto del web Sulla mente E sul corpo Dei più giovani Il quadro è devastante Coca Web Non è un'esagerazione I neurologi Ci hanno spiegato Che i meccanismi chimici Ne cerebrani Che sta a giocastro Ragazzino Scusate Fortnite no build A che cazzo stava a giocare Colpa mia Colpa mia Lì hanno preso Tutta colpa Tutti io E' una generazione Di idioti Sì sì Con zero e più Proprio Per le serie Non ci associate A queste cose Perché Hanno preso immagini Di videogiochi Generici Bambini Che giocano Ai giochi Ok Magari Anche no Ecco Io sto pensando Una sorta di Pablo Escobar Praticamente Sì Sì Noi abbiamo Una varietà Di droghe Più Più ampia Tu proponi Soprattutto Fortnite No Hai capito Noi invece Facciamo conoscere Tante droghe Senza ommelier Esatto Fuori le scuole Da quella tagliata male Giorgio So forte E te tagliato malissimo Non può che degenerare In abuso Di social E videogiochi Sulla mente umana Soprattutto Sulla mente dei più giovani Sono identici Letteralmente identici A quelli della cocaina Si secerne l'ormone Che trasmette La sensazione del piacere Per questo Quella roba lì E' più piacevole Di qualsiasi altra Per un adolescente Per questo Per un genitore E' quasi impossibile E' difficile Staccare il proprio figlio Dallo smartphone Ecco Concluda Eh Giorgio Ma senti un po' Spiegami un po' Com'è che te senti? Cioè Sembra come se Pippi la bamba Quando giochi Ragazzi Ma io sono di una Tranquillità totale Quando gioco Che sono tipo Nel nirvani Sono nel relax Più totale Cioè la gente Ti fa come fai Non incazzarti Così A eccitare Io sto là Sto dare tranquillità E ti tipo Ammazzo le persone Parlo cacciato In tranquillità Quindi non me lo chiede Mi sa che è un'altra sostanza Allora Non è quella che dici Eh no Per me non è la coca Dice qualcos'altro O forse andiamo più Su qualcosa di legale Tipo Xan Agamomilla Agamomilla verde Sì Una tisanina Vabbè quante cazzate Cioè io vedo questi E' come se io adesso Mi metto a parlare No De Che ne so De Geopolitica Ma se non Ma 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 I giovani Mettemoci uno Mettemoci uno Che Che Se Vabbè Lasciamo un peso Che poi Che poi mi Guerevano Si è avvicinata molto Al mondo dei videogiochi Anche di Twitch Si è andata a informare Dell'ambiente giovanile E della comunicazione Che è quello di cui si occupa Comunque anche lei Quindi non solo istruzione Ma un pochino di tutto Ha fatto un po' un mappazzone Però ha detto Voglio sapere di questo mondo Cioè io ci ho parlato in privato Con lei Ho avuto la fortuna E io da lei ho visto Molta volontà Non solo di Ovviamente tutti i ragazzi Fanno le cose Pure per il proprio tornaconto È ovvio Come in tutte le cose Però allo stesso tempo Ho visto molta volontà Di capire Cioè Di entrare in un mondo Che attualmente Non fa parte Della propria generazione Ma di cercare di capirlo Cioè perché Questi ragazzi La sera Durante la quarantena Si trovavano su Discord Con le gamme accese A chiacchierare Perché si sono buttati Nel mondo dei videogiochi Perché Alcuni preferiscono Attualmente lavorare Da casa Da casa in smart working Cioè cercando di capire Quello che stava accadendo Ragazzi Però c'è anche da dire C'è anche da dire Che ci vuole proprio La laurea Per capire Che sono cose piacevoli Che è bello farle Che è comodo Che vincono Cioè fanno vincere Quella che è la nostra pigrizia Anziché andare Vabbè Voglio dire Non è che Penso che ci voglia Chissà che cosa Per capire Perché piacciono queste cose Il punto è che Lui Il senatore qui dice Se c'erne l'ormone Del piacere Questa già A livello scientifico Non ha proprio Nessuno spessore Questa affermazione Perché Se c'erne l'ormone Del piacere Lui sta parlando Cosa di dopamina Del discorso Che sono cose Che fanno anche Appunto altre cose Come per esempio Il cibo Il cioccolato Il sesso Vediamo gli abbracci Un sacco di cose Che Io non penso Che in questi termini In questi termini Sia accostabile All'uso Al consumo Della cocaina Non lo so Perché non ho mai fatto uso Non voglio fare adesso Il puritano Però dico In generale Non penso Che generi Le stesse sensazioni Cioè È una sensazione diversa Perché Però lui La derubrica Ha generica Sensazione di piacere Ma sensazione di piacere Ce l'abbiamo Per fortuna Tante volte Anche nel corso Di una stessa giornata Mangiando qualcosa Facendo qualcosa Che ci piace Vai Giorgio Vai Guarda io ti posso dire Da parte mia Avendo fatto competizione A alti livelli Quello che ti subentra tanto È l'adrenalina Il fatto di avere Le gambe che ti tremano La mano che ti trema Il battito nell'orecchio Che lo senti a 2000 Quello succede Però Allora io non so Che effetto fa la cocaina Sempre detto Ne parlavo l'altra volta Che avevi detto Io avrei la curiosità Di provare le droghe Per capire quello che fanno Però c'è anche Ovviamente la paura Di finirci sotto Per questa cosa Però allo stesso tempo Non credo Che l'effetto Di un videogioco L'appagamento Che ti dà un videogioco Comunque arrivare A un goal A un obiettivo Che ti pone il videogioco Ti dia un effetto Simile alla cocaina Posso capire Che siano magari Le stesse sostanze Che vengono rilasciate All'interno del corpo umano Ma non Ragazzi Non come la cocaina Non è che esco Annoiato a tirare Le capocciate al muro Vedo il quadro Che è spostato Lo voglio mettere dritto E poi sfondo il muro Ma poi in quel caso Semmai sono sostanze Endogene Che noi abbiamo Produciamo Per mezzo di un'attività Che svolgiamo Nel caso della cocaina È una sostanza esogena Cioè dall'esterno Che noi assumiamo E che genera Effetti diversi E quindi Secondo me L'accostamento È proprio sbagliato È un po' Qualunquista Come a far capire Raga Sta cosa è una droga E vabbè Abbiamo capito Però Tu lo stai spiegando Ai genitori preoccupati No? Alle bambine pancine Che si preoccupano Del fatto che Oh mio dio Mio figlio Forse è mezzo drogato Devo vedere Devo stare più attento Ecco sotto questo punto di vista C'è una sorta di ipercorrettismo Iperattenzione Che per certi versi Potrebbe effettivamente Redarguire Quelle madri Che poi lui discute Quelle madri Quei padri Quei genitori Che lasciano un po' Troppo i figli piccoli Veramente piccoli Davanti al tablet Anche mentre si mangia Mentre si fa altro Però non deve essere Così severa La punizione psicologica Nei confronti dei genitori Enfatizzando così tanto Quella che è la posizione Quella che è la Cioè ciò che è il gioco Il videogioco Il social O quello che è Può produrre Nei confronti dei ragazzini Fermo restando Che sui social Un bambino proprio piccolo Non glielo farei neanche andare Ma quello è un altro discorso Sì sì Secondo me il problema Sta proprio nella comunicazione Ovviamente Quello che dite Cioè per toccare Quel elettorato Nel suo caso Ma in generale pubblico Bisogna usare delle iperboli Sottovalutando poi Alcune cose che ci sono Ad esempio c'è Il meccanismo Anche della ricompensa Che vale per molti videogiochi Ma in generale Per molte attività Anche extra web Per esempio Ho letto Maria Doro in chat Che diceva Forse non avete mai giocato A un torneo di Magic In real life Non è questo il punto Il punto è che ci sono Ovviamente dei problemi Anche il discorso legato Alla soglia d'attenzione Il disturbo d'attenzione Ovviamente Ci sono stimoli Troppo frequenti Ed è per questo Che si Cominciano anche Ad evidenziare Dei problemi Di Analfabetismo funzionale O anche Analfabetismo di ritorno E quello che dicevi tu Sulla lettura È molto vero Cioè Un ragazzo Ha decisamente difficoltà A leggere un libro Anche perché non è abituato Cazzo TikTok è proprio L'enfatizzazione Tutto questo Però Detto così Che significa Ma tu figurati Guarda che Lo stesso Non mi ricordo Chi era Forse Florentino Perez Quando c'è stata La Si era paventata L'ipotesi Di fare la Super League Come si chiamava Al posto della Champions Vabbè insomma Quel campionato Tra le grandi squadre Si era Ipotizzato Di ridurre Il tempo Delle partite Da 90 80 minuti Perché i ragazzini Ormai non erano più interessati A guardare 90 minuti Di partita Perché invece Molto più interessati Ai videogiochi Se me la dici così Può essere giusta Può essere vera Come cosa Perché effettivamente L'attenzione Che possono generare I videogiochi Il web Tutte queste distrazioni Che sono piacevolissime Che sono assuefacenti Come non mai Lasciano poco spazio Poi magari Anche a guardare una partita Quindi non arriviamo A leggere un libro Che già sarebbe Una cosa Estremamente complicata Per un ragazzino Che non si vuole impegnare Troppo Ma anche seguire una partita Di calcio Pur essendo anche Appassionato di calcio Non se le seguono più Diceva Perez E quindi riduciamo il tempo Perché se no Se ne torna a giocare A Fortnite Certo Quindi vabbè Che ci sia un problema Dell'attenzione Che tutti questi nuovi media Distraggano Distolgano L'attenzione Da altro Che poi ognuno Come dicevi Ha il suo interesse Quello per le partite Quello per i libri Quello per altre cose Che vuole attirare L'attenzione Su quelle altre cose Il problema è che Non è che Perché esistono Delle cose belle E allora Bisogna regolamentarle Sì Ma neanche Appunto Eccedere Nel paragonarle A cose che fanno così male Non demonizzarle Perché altrimenti si rischia L'effetto opposto Sì Una demonizzazione Inutile Ma guarda Hai ragione Su sostanza La demonizzazione Sì ovviamente inutile Però credo che Io credo che Tra di noi Che facciamo questo lavoro Che sia youtuber Che sia streamer Comunque Influencer di questo mondo Che sia Twitch o Youtube Credo Non avrei mai sentito Nessuno Qualcuno di dire Di perseguire la nostra strada E di quello che facciamo Da nessuno Perché per quanto ci siano I lati belli di questo lavoro Ci sono tantissimi lati brutti Che non tutti sono Sono in grado di reggere La cosa che dicono molti Ora Da che un tempo I ragazzini vanno a fare i calciatori Ora vogliono fare I pro player Gli streamer Gli youtuber I content creator I tiktoker Quello che volete Molte di queste persone Non si rendono conto Effettivamente Di quello che c'è dietro Del lavoro che c'è dietro Delle delusioni Delle ansie Che ci sono Del burnout Che può arrivare Dopo pochissimo tempo Per chi l'ha provato Sulla propria pelle Le sa queste cose Ed è per quello Che noi non siamo mai State persone Che hanno spinto Per promuovere le persone A fare questo lavoro Io penso che sia valso Per qualsiasi lavoro Dei sogni Anche per chi vuole fare Il cantante Il calciatore L'attore Il ragazzino Nessuno si rende Realmente conto Del mazzo Che ci vuole Per fare questi lavori Da sogno È sempre stato così Tra l'altro Risposta a Giorgio Vuole dire che È vera questa cosa Noi stessi spesso Diciamo Nel senso Non è tutto Rosa e fiori Di questo mondo Fatato C'è da dire però Che il meccanismo Di emulazione È molto più forte Delle parole Vedere qualcuno Che ce la fa Indipendentemente Da ciò che dice È troppo Più coinvolgente Comunque Andiamo avanti Ah è appunto Ho scritto a Max Entrerà alla fine Della reaction Al servizio Allora magari Andiamo un po' più spediti Figlio dallo smartphone Ecco Concluda 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 Tutte le patologie Essere giovani Non è mai stato facile Ma mai Come in questa fase storica Tutte le malattie Mentali Disagi Disturbi alimentari L'autolesionismo L'aggressione Sono in crescita In crescita vertiginosa Da quando le console Dei videogiochi Sono entrate In le stanze Di nostri figli E soprattutto Da quando 2007-2008 Lo smartphone È entrato Nella loro disponibilità E la loro capacità Cognitiva Mentale Progressivamente Si sta riducendo Questa è la prima Generazione Ci è stato spiegato Che ha un quotiente D'intelligenza Inferiore Alle generazioni Che l'hanno preceduto Non era mai successo No, gli zoomer No Che la scuola Prende un terzo Dei finanziamenti Dell'ultimi 20 anni Quello non lo calcolano Non ne parliamo di quello Quello non lo calcolano Il problema Sui videogiochi Allora, sul discorso Del qualsiasi interlettivo Come diceva Giorgio Sono curioso Di vedere i dati Sul fatto della Soglia di attenzione Penso di essere Abbastanza d'accordo Non ho capito La roba Dell'aggressività Maggiore aggressività Che vuol dire Spari a code E poi vuoi sparare Le classiche Aggressione verbale Sono di quelle parole Buttate lì Sono di quelle cose Buttate lì Per fare Come la calcoli Regà Regà Questa cosa non ha senso Perché dare la colpa Al fatto che Sono entrati nelle case Come ha detto lui 2007-2008 Gli smartphone All'interno Delle case 2007-2008 Sono entrati le console Smartphone Diceva eccetera eccetera E trovare una correlazione Con questo Secondo me Non ha totalmente senso Perché Io Giorgio Di politica Non so un cazzo Non faccio il politico Non mi piace la politica Non parlo quindi di politica Tu Andrea Mio caro Andrea De videogiochi Del mondo del web Non ne sei niente Non era manco iscritto Ai vari social media Prima di adesso Prima di entrare in politica Quindi Fare queste sparate a zero Secondo me Sono molto da persone ignoranti Cioè che ignora Quello che succede E quello che è Perché non vivi questo mondo Ti permetti di parlare Con presunzione Tra l'altro Come dice le cose Di cose che non sono Di un mondo Che tu hai mai toccato E permetti di sparare a zero Perché i videogiochi Con la violenza Non hanno niente a che fare È stato dimostrato Da tantissimi studi Che si possono cercare Basta una ricerchina Su google Di questa cosa Che non c'è Correlazione Tra violenza E videogiochi Anzi Il contrario C'è la catarsi Grazie ai videogiochi Proprio perché Tu hai una totale libertà E ogni scelta Comporta una conseguenza All'interno di un videogioco E la conseguenza Può essere anche la morte All'interno però Di un videogioco Con poi il cosiddetto Respawn Permettetemi Quindi O ricaricare il salvataggio Quindi con questo Voglio dire che Non esiste questa cosa Cioè non esiste Non c'è nessuna correlazione Più che altro Fa capire come Fa capire come lui Con il cinema Avvenne no Infatti I film horror Non ti rendono L'assassino Al massimo Ti rendono più creativo Voi immaginate Magari persone Che hanno la stessa età Del senatore Che si trovano il figlio Magari che sta lì Davanti al computer Magari neanche sanno Se sta sempre a giocare Poi crea un sacco Di allarmismi Poi Magari uno c'è il figlio Che sta sempre davanti al computer Magari gioca due ore Per l'arte tre ore Se fai i cazzi su Ma Quello si pensa Chissà Il modo in cui esordisce lui Cioè il modo in cui lui dice Da quando le console Sono entrate nelle stanze Dei nostri ragazzi Non ha proprio senso Perché le console Allora Questo fa capire come Lui voglia Voglia cercare di demonizzare Un po' tutto Cioè tutto quest'ambito Perché questa espressione Da quando le console Sono entrate nelle case nostre Nelle stanze Dei nostri ragazzi Dobbiamo risalire Alle prime console Che sono di 40 45 anni fa Quindi non ha proprio Senso Da quando è Cioè quando deve essere preso Un campione Per poter capire Se il cui Si è abbassato Se ci sono Se c'è più aggressività Poi vedete come Mette nel calderone Tutte queste cose A far capire che lui Voglia far preoccupare Un po' i genitori A casa E almeno questa è la sensazione Che ho percepito io Eh senatore E fa capire come Effettivamente Per poter Constatare Se effettivamente C'è stata Maggiore aggressione Maggiore aggressività Da parte Dei ragazzi Un cui più basso Si deve prendere Sempre un campione Di tempo Piuttosto limitato Perché altrimenti Così è troppo generico Cioè risaliamo All'epoca Dell'Atari 2006 Delle pon console Di quando Cioè le console Sono entrate Nelle nostre vite Da infinità D'anni Prima che io nascessi Quindi Non ha proprio senso Come affermazione E poi continua Con il telefono Ma è da quando Ci sono i telefoni Cioè dal 2007 2008 O da quando ci sono Le console a casa Perché è totalmente diverso Se tu devi portare Delle evidenze scientifiche All'attenzione del pubblico Lo devi fare Nella maniera Più precisa E metodica possibile Così Ti mantieni generico In un range di tempo Che va dagli ultimi 40 anni Agli ultimi 15 Quindi non ha proprio senso E questa La già La fallacia logica Che sta alla base Del suo ragionamento Che Come detto Secondo me Non vuole essere Un vero ragionamento Ma un demandare Alla preoccupazione Del pubblico a casa Quello che poi È l'effetto finale Cioè per la serie Oh ragazzi Preoccupatevi Perché qua C'è una situazione Una generazione E dobbiamo salvare C'è la cocaina web C'è la coca web E un voler caricare Di informazioni Che vengono poi Recepite Tutti in una volta Come preoccupazione generica Per questi benedetti Videogiochi E allora preoccupiamoci Perché ovviamente Si ha paura Di ciò che non si conosce Quella è la cosa Io immagino il genitore Io ho sempre preso L'esempio di mia madre Mia madre era Contro Questo mondo E tutte queste cose Però piano piano Sono riuscito Attraverso il dialogo Attraverso anche Tante litigate Tante problematiche Che magari si sono create In famiglia Dovete al fatto Che io giocavo così tanto E volevo chiudermi in casa A giocare Invece di concentrarmi Su altre cose Piano piano però Io ho capito mia madre Mia madre ha capito me Fino ad arrivare A un punto di incontro A un certo punto Dove lei ha capito Perché mi piacevano I videogiochi Perché ero così Gasato di fare queste cose E volevo dare Così tanto spazio Ma io allo stesso tempo Non capivo Che c'erano altre priorità Nella vita pure Non solo quella E mi ha aiutato lei Però se tu genitore Non stai vicino Al tuo bambino Alla tua bambina Chiunque sia E non lo segui Non capisci Ciò che gli piace È normale Che ti troverai Sempre un muro davanti Cioè tu devi anche Immedesimarti In quello che è Tuo figlio e tua figlia E quello che loro vogliono fare Indipendentemente Se a te piace o no Sì però Mi ha molto incuriosito Questa cosa Un esempio tipo Di altre priorità Che ti ha Fatto presente tua madre Allora guarda Questo è un esempio Molto particolare Era il mio quinto superiore Durante il mio quinto superiore Ho avuto la suina Sono rimasto Un mese a casa E quindi Ero rimasto Molto indietro Con le lezioni E tutto il resto E quando sono tornato Avevo Non lo so Forse avevo preso Come l'idea Di sconfitta Del quinto anno E quindi Di non andare più A fare il quinto Di lasciarlo Perché non sarei mai Stato in grado Di recuperare E allo stesso tempo Di concentrarmi Magari nei videogiochi Perché io Quell'anno C'erano le qualifiche mondiali Di Call of Duty E quindi per me era solo quello Dato che Vedevo questa cosa Pure nella scuola Mia madre invece Forza di pressarmi Di spingermi Di farmi capire cose Pure attraverso litigate Io alla fine Quell'anno Sono uscito Tranquillamente Dalla maturità Con totale Come se non fosse niente E mi sono andato anche A qualificare i mondiali Di Los Angeles Un mese dopo Però Se fosse stato per me Per quello che mi piaceva fare È ovvio Faccio quello che voglio fare Sono piccolo Non ho ancora la coscienza Così sviluppato Almeno ero immaturo All'epoca Nel capire Ti ha dato comunque La motivazione E la forza di fare tutto Magari se non fosse stata presenta Avresti fatto solo quello E non ti saresti È giusto che i genitori Diano un'impostazione Però Percependo dalla televisione Informazioni così È il tipico esempio È la mamma Che poi viene Va dal ragazzo E dice Oh ma l'hai sentito I video giochi come la cocaina Da quando è che ci sono le console Oppure da quando ci sono gli smartphone È aumentata l'aggressività Il cui è sceso Cioè tutte informazioni Che poi i genitori percepiscono Come un mappazzone Che non fa bene a nessuno Invece nel caso di Power Che è particolarmente curioso Perché lui tra l'altro Faceva anche i competitivi Cosa che io per esempio Non ho mai fatto Ho visto il videogioco Più dal punto di vista contemplativo Cioè della divulgazione videoludica E chiaramente È giusto che un genitore Dia un'impostazione Quanto più precisa possibile Impegnandosi a conoscere Quelle che sono le passioni Dei propri ragazzi Dei propri figli E anche indirizzando Verso quello che può essere Un successo Come ha fatto Power Come effettivamente Poi si è qualificato Ai mondiali E si è fatto strada In quest'ambiente Pur Con il consiglio Dietro il consiglio Di sua madre Non abbandonando L'ambito degli studi Perché comunque Non si può mai sapere Ed è giusto così Ma questo devono fare i genitori Non preoccuparsi Per quello che si dice In televisione Ma se la televisione Ti fa preoccupare Giustamente Certo Storia e l'umanità Secondo me Questo è il tema Di quest'epoca Io ho fatto Le proposte di legge Per cercare di governare Il fenomeno Non si può invertirlo Ma è dovere Della politica Governare fenomeni Così complessi Che danneggiano In maniera così evidente I più giovani Mi auguro che più Se ne parla Più è facile Che il Parlamento Affronti E si renda responsabile Di un fenomeno Che non possiamo trascurare Ecco c'è un termine Cognato dai cinesi Di cui lei parla Nel libro Che indica Quell'atteggiamento Che ormai È inconfondibile Lo vediamo ovunque E non caratterizza Devo dirlo Soltanto i giovani Quello con La testa Erano giapponesi E si è confusa Con i cinesi E' diverso Pure molto A livello politico Attualmente La nazionale Cinesi Giapponesi Vabbè Poi soprattutto Per un berlusconiano Infatti Mi aveva un po' Confuso Stato Sospirava La politica cinese Ovunque E non caratterizza Devo dirlo Soltanto i giovani Quello con La testa chinata Sullo smartphone Non ci si guarda più in faccia Non si legge più un libro Sembrano delle banalità Dei luoghi comuni Però Un buon libro Lo sono Però lo sono Non sembra Io ragazzi Che li leggo sul Kindle I libri Sono un mostro Eh sì Ma la gente Non ha sempre letto libri Secondo il proprio Libero arbitrio Ma se nessuno Sta più a leggere Un cazzo Perché non gli va Più a nessuno Basta Bruciamoli tutti Cazzo C'è Stanichino Lo ha detto Power Ecologia 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 Fahrenheit 451 Diventiamo ecologici Basta libri Vita Tempetto Stamenata del senso De colpa Che non se leggono i libri Non mi va Non me va Ma c'hai ragione Simo Che tanto Pure i bambini De due anni C'hanno il loro Tablettino del cazzo Ma digitalizziamo Ah io su questo Non sono assolutamente D'accordo Chi legge i libri Lo fa per scelta Nessuno lo fa Perché ho obbligato Quindi pure se me lo dici Non mi viene la voglia Questo è il mio discorso Vabbè però Diciamo che Infatizzare Questa parte qui Forse è bene Non fa Abbiamo un po' degenerato Avete rotto Chi legge i libri A dire Un buon libro Un buon libro Ma diamo supporto Alla Tamberlang Però Cerbero contro il circolo Del libro Però Devo dire una cosa È vero che molto spesso Questi appelli Vengono fatti Da radical chic Rompicoglioni Quello è Ma Si sottovaluta molto Una cosa secondo me Che ti dona molte skill L'importanza della lettura No è vero Ti dona molte skill A leggere La dialettica Soprattutto Lo so Lo so Davide Lo so che fa bene alla mente Ma perché Perché porlo come un out Out Cioè o quello O i videogiochi Si può fare Si possono fare Entrambe le cose Tranquillamente Ragazzi cioè Io la sera Vabbè ora Ho detto la cosa Del kindle Ma perché Perché io Quando stacco la live Non mi viene sonno Perché ovviamente Stando davanti allo schermo Ho appena fido la live Stacco all'una le due Quindi Andrei a letto alle 5 del mattino Sapete che faccio Io mi prendo il kindle Mi metto sul letto E leggo Un buon libro Un buon kindle Ma che è il kindle Come cazzo fa C'è il cioccolato Il cioccolato Quello È quello di Amazon Per leggere Che poi scusa Come cazzo faccio Al buio Cioè poi divento cieco La lampadina E poi vedi Sono i libri Che ti fanno diventare cieco Mica le pippe Vero Leopardi Ci è diventato cieco A sta dietro in Libia Alla poesia È morto poi È morto poi Mi hanno detto Che è morto È morto Sì sì Vabbè capita Un po' di tempo fa Non sono un antipodernista Credo nella tecnologia E nel progresso Ma certe cose Non possiamo negarle Per capire come sarebbero Madonna gli americani Sono cent'anni avanti Cioè La Cina La Corea del Sud È che A livello digitale Sono arrivati Prima di noi Ma questo Poteva essere Vent'anni fa Adesso c'è una globalizzazione Che ci permette Di fruire Delle novità digitali Tecnologiche Più o meno Contemporaneamente Worldwide Come si dice È una cosa abbastanza Non lo so Vetusta come affermazione Ormai è un discorso Che si può fare solamente Sulla mentalità Magari Su Su Determinate cose Ma è ovvio Che questa persona Parla senza sapere un cazzo Concordo Assolutamente Ragazzi Sono tre paesi Che hanno delle situazioni Sociali Culturali E politiche Totalmente diverse Ma anche tra loro Diverse tra loro Cioè tutte e tre Sono diverse Sono paesi asiatici Va bene Ma non è mo' Perché ci hanno Gli occhi a mandorla Questo è razzismo È razzistissimo Questa cosa che ha detto il tipo Comunque Cinesi qua Le culture completamente diverse Le ha unite Senza alcun motivo Vabbè È così Cioè io mi immagino Lo sai che c'è Che fa orientale È tutto orientale Il fascino orientale Ragazzi Parliamo O l'Uganizia Ma c'è tutto insieme Ma tipo tu prendi La Corea del Sud La Corea del Sud È l'unico paese Dove società Cioè la cultura Scusami Si è riuscita A incastrare Perfettamente Con la tecnologia Però è un modello Come Completamente americano Cioè loro La loro politica La loro società È completamente americana È come andare a Los Angeles Trovi quello ricco E il morto per strada Che si fa di crack È identica così La Corea del Sud Il Gangnam Style No Sì I guardieri Gangnam È un debito economico Assurdo Infatti è come l'America Cioè ci manca solo Che ci arriva in Trump Ci hanno fatto Squid Game Apposta Cioè parlava di quella Era quella un po' Alienazione Il Giappone Sono super nazionalisti Ricordiamo questa cosa Se non per alcune città Che si sono globalizzate E aperte Verso il turismo Perché tu come esci fuori Ci sono quelli Che ti guardano malissimo Come se fossimo Nella seconda guerra mondiale E rischi bruttissimi Facendo di no Gaicini In alcune zone Succede questa cosa Ed è una tipologia Lì molto orientale Incentrato sul lavoro E tutto il resto Cina Un altro posto Diversissimo Poi dove vai In Cina Cambia tutto Vai nella parte a nord In modo Sud in altra Sulla costa del Pacifica In altra ancora Vicino all'India Ancora diverte Cioè Che poi In Cina Le regolamentazioni Sui videogiochi Soprattutto su telefono Per i ragazzini Diciamo che ci sono Anche altri motivi Per cui sono state Poste Ma sul web In generale Non sono i videogiochi Ma è che qua Dobbiamo dire Guardate che bravi Quelli hanno Hanno limitato I ragazzini Sì ho capito Che bravi cinesi Non si può accedere A Google Ma di che stiamo parlando C'è proprio Un universo A parte Comunque Voglio dire La colpa È tutta Dei ristoratori Che aprono Ristorante Giapponese Slash cinese Prendi una Fottuta direzione Alcuni anche Thailandese Sì tre Ma i ristoranti Giapponesi Ma i ristoranti Giapponesi C'è stanno Tipo Quasi sempre Un botto De cinesi Sì ma O uno O l'altro Cioè sei cinese O giapponese Cucina cinese O giapponese Non è che è tutto Nel calderone Perché Dato che per noi Sì Ma non alimentate Questa cultura Ma vabbè Sono tutti la stessa cosa Via Un fusion Un fusion Sono dei luoghi In cui si cura Questa dipendenza Una è la comunità Nuovi Orizzonti Abbiamo raccolto Questa testimonianza E un giovane Che racconta Proprio Come sta Cercando di smettere Di staccarsi Dai dispositivi Dalla rete E dal web Sta cercando di staccarsi Ci ha infilato in culo Mi perturba la matrix Qua È un convento All'inizio Ah questo è lo zio Il giovane Che stai dappertutto Ma questo è lo zio Il giovane Arriva adesso Ora arriva il giovane Dice abbiamo chiamato Un esorcista Però Non è riuscito A risolvere L'espendenza Che dipendenza dal web Quando proprio Agli abboni All'inizio Dell'ISDN Pensando di Costruirmi Una vita Irreale Soprattutto Senza Le Relazioni Non avendo Contatto emotivo Con le persone Non uscivo più di casa Ero rinchiuso Perché il mondo reale Fa schifo E non si respawna Una vita Contraria Quindi dormivo Dormivo di giorno Stavo sveglio di notte Non si respawna Vabbè anch'io Sono arrivati i giochi Sono arrivati i primi social Alla mia voglia In messenger di windows E lì Mi sono proprio Concentrato su quello Cercando anche di Chiudere Tutto il dolore Che avevo dentro Per riuscire a Comprimere tutto Non sentire più niente Ho chiesto Aiuto Alla comunità Nuovi Rizzonti Ma fa una cartella Rar Questi giovani Questa è importante Questa affermazione È importante Perché lui dice Cercando di chiudermi In questi mondi E quindi Comprimere il dolore E non sentire più niente Perché lui soffriva Nel mondo reale Cioè lui aveva Delle sofferenze Delle insofferenze Nel mondo reale E che quindi Nel videogioco Vabbè nel videogioco Poi non parla neanche Ai videogiochi Dice dell'ISDN A 28K E si collegava MSN di Windows Quindi anche Delle improprietà Di linguaggio Però voglio dire Lui si rifugiava In questi mondi virtuali Per fuggire Da quello reale Che non Non gli si confaceva Sì sì Infatti Non era Delle cause Bella Max Buonasera Buonasera a tutti Ciao ragazzi Ciao Scusa Max Ma Simone non mi ha avvertito Lo buttalo dentro È brutto Come si stiamo tutto Se aspettate Vai finisci pure Al fine servizio Entra pure Ormai le adoro Mi metto così E Niente quindi appunto Cioè il discorso è che Bisognava indagare Quelli che erano Le ragioni Che lo portavano A questa insofferenza Non al rifugio Verso cui lui è andato Che poteva essere Qualsiasi altra cosa Anzi sarebbe potuta essere Anche la droga Certo Si è rifugiato In queste In questi New Media È andata così Però lui stesso Riconosce che Perché aveva dei problemi A monte Che poi avrà risolto Perché poi dice di Adesso si è sposato Insomma A un figlio Questo è Il discorso è proprio questo Cioè capire quali sono Le ragioni che ci portano A un isolamento Che ci portano A un Esacerbazione A un'esagerazione Nell'uso di certe cose Che possono essere Piacevolissime Se usate In maniera misurata Ma se Giustamente Se ne fa un eccesso Un abuso È perché si spugge Si rifugge Da altri problemi Che ci sono Nella vita Di tutti i giorni Diciamo che hanno confuso Un'erro La riduzione Di problemi Con la causa Si esattamente Proprio così Di vita nuovo C'era prima Max Che stava scrivendo In chat Delle Diciamo Delucidazioni Per quanto riguarda Il paragone Con la dipendenza E con la droga Sì Allora Praticamente Il servizio In sé per sé È diabolico Nel senso che Fa un mischione Di cose Dice anche Degli accenni Di cose giuste Ma poi Le va a demonizzare E quindi Non viene data La soluzione Al problema Cioè Qual è il problema Di base Il problema Di base È che c'è un qualcosa Che crea Delle problematiche E non ci dà La soluzione Dice guardate Che sta succedendo Questo Dovremmo muoverci Così È stato preso In mezzo Pure il test Del test Del quoziente Intellettivo Che addirittura Non viene quasi Più utilizzato In alcuni casi Perché viene utilizzato Quello emotivo Perché tante volte Il quoziente Intellettivo Va in difficoltà Perché c'è L'ambito prestazionale Che non ti permette Quindi di dare Anche al massimo Di te stesso Però c'è una cosa Importante da dire Dire che Una dipendenza Da comportamento Perché si chiamano Dipendenze Da comportamento Queste Che sono il gioco D'azzardo I videogiochi Che sono state Anche inserite Nei nuovi manuali Diagnostici Nel DSM quinto Dire che non hanno Lo stesso effetto Della cocaina È sbagliato Perché Perché In realtà Le attivazioni Che ci sono Sono le medesime Cioè c'è il sistema Di ricompensa Dopaminergico Quindi un'attivazione Della dopamina E la dopamina Che succede Che a un certo punto Si impigrisce La produzione E quindi tu hai bisogno Di reiterare nel tempo Quel comportamento O utilizzare quella sostanza Affinché tu Risenta determinate situazioni E calcolate che il sistema Di ricompensa dopaminergica È fondamentale Perché è quello Che ci fa dare Significato alle nostre esperienze Quindi se io sono Assuefatto da un determinato Tipo di comportamento In realtà Vado in difficoltà E può diventare Totalizzante Il problema Che abbiamo in Italia È la traduzione Perché In inglese In americano In inglese In generale C'è Addiction Che sarebbe Una dipendenza Psicologica E poi c'è la Dependence Che è la dipendenza Che è una dipendenza Fisica Però le cose Che avvengono Sono le stesse Proprio identiche E c'è una pericolosità enorme Non a caso Sono state inserite Pure nei manuali diagnostici Quindi Dire che La questione Della sostanza Endogena Isogena In realtà Fa buon gioco A loro Perché in realtà Non è così In realtà La questione È proprio È molto problematica Il problema Di base In quello che stiamo vedendo È che Ha parlato di roba Delle anni del cucù Test degli anni del cucù Con console dell'anni del cucù Che non valgono più In più Non ha parlato Di quanto Per esempio Il web Abbia Aiutato tantissime persone A non cadere In uno stato depressivo Che sarebbe stato Nettamente Più Evidente Se non ci fosse stata La possibilità Di socializzare E quindi Che cosa succede? Succede che lui Spara della roba A caso E poi E la mette Dentro un mischione Questo è Veramente problematico Perché Allora Dovrebbero spiegare Perché succede Questa cosa? Perché Siamo Iper Siamo Iper Tecnologici E non c'è Nessuno Che sta insegnando Né agli insegnanti Né alle nuove generazioni Come utilizzare Il web Internet O in generale I videogiochi E Perché è molto pericoloso Accendere un campanello D'allarme Sui videogiochi È importante Perché Soprattutto in adolescenza Soprattutto nel periodo Dai 10 ai 14 anni È quello proprio Dove c'è più La concezione E la presa Di coscienza Di sé All'interno del mondo E quindi Che cosa succede? Che se noi Creiamo una dipendenza Da videogiochi Nei bambini La concezione di sé È una concessione Che si basa nel virtuale E non nella realtà Reale E quindi ci saranno Anche delle problematiche Di interazione sociale Di dipendenza Di chiusura in se stessi Incapacità di Esprimersi con il prossimo Quindi È importante Questo da dire Però Il punto è Quando lui va a dire Che l'uso non può Che degenerare in abuso È quella la cosa sbagliata Infatti Io uso un discorso Endogene ed esogene Mi sono espresso Come opinione personale Ma nel mio video Ho detto Non mi esprimerò Sul discorso Sull'accostamento Con la cocaina Perché non ne ho le competenze Mi fa piacere Che sia intervenuto tu Il discorso però È come l'ha posta lui Perché Se me l'avesse detto Come l'hai detta tu oggi Non ci sarebbe stato Niente da dire Mi pare No Cioè avremmo discusso Di Potenziali pericoli Che possono derivare Appunto Dall'uso eccessivo Soprattutto in giovanissima età Di tutte queste Di tutte queste nuove tecnologie No Cioè Soprattutto dei social Dei new media Dei videogiochi E quant'altro Il problema è mettere tutto Nel calderone E indicare Che anche un uso Quindi anche trascurabile Può degenerare in abuso Anzi Non può che Degenerare in abuso Cioè È questo il meccanismo Che non va bene Il meccanismo comunicativo Che non va bene Alla base del suo discorso E uno dice Potrebbe averlo detto Per sbaglio Magari In preda All'emozione Durante la trasmissione Se vai a vedere La descrizione Del suo libro Su Amazon C'è scritto La stessa cosa Cioè L'uso che non può Che degenerare in abuso Quindi è proprio Un assieme di fondo Un assunto di fondo Che è sbagliato Un problema di fondo Che il problema Tu non puoi scaricare Su chi vive all'interno del web E chi vive il web Perché se c'è un comportamento Reiterato nel tempo Significa che c'è Chi dovrebbe mediare questa cosa Un caregiver Un genitore in generale Che non ha O le competenze O le capacità O ci sono altri problemi Di un altro tipo Che non permettono Di fare da filtro Che è fondamentale Soprattutto perché Perché diventa pericoloso Perché immaginate Un bambino Un ragazzo adolescente Che deve formare Se stesso All'interno del mondo Quanto sia complicato Prendere degli input C'è l'emulazione C'è abbiamo detto Come abbiamo parlato Di sistema di ricompensa Dopaminergico Che diventa problematico Il problema grande Che c'è Tra vecchi media E nuovi media Tra nuove generazioni E vecchie generazioni È proprio questo Che c'è una vecchia generazione Che sta arrancando Ed ha paura Che la nuova Come la televisione Con il web La televisione Parla del web Come se fosse Il male assoluto Quando in realtà Non funziona così E vengono date Delle informazioni Anche da trasmissioni Che di solito Fanno delle inchieste Anche molto articolate Proprio basic Quindi è la modalità Comunicativa Che ha utilizzato È folle E manda un messaggio Completamente sbagliato Non stai dando Delle informazioni Per aiutare Le persone All'evitamento Di questa cosa Anzi Stai creando Uno spavento Che creerà Ancora più distacco E quindi una mancanza Di comunicazione Se io e te Tu sei mio padre Io e te Non parliamo Perché tu hai sentito In televisione Che questo ha detto Questo Questo e questo Andiamo a creare Un muro ancora più alto Che sarà difficile Da sormontare C'era Giorgio Che voleva parlare No no Però c'è una cosa Io voglio spezzare Un'arancia Scherzo Un'arancia A favore di quello Che ha detto Max Di essere sociali Eccetera eccetera Io Ero un ragazzino Tra cagnotto Alto Un metro e quaranta Un metro e cinquanta Preso in giro Per il mio aspetto Roba varia Supera sociale E mi rifugiavo Nei videogiochi Mi rifugiavo Questo l'anno scorso Un rifiuto dagli altri Sì poi mi hanno dato La coca web E sono diventato così No però Sul serio Ho iniziato a giocare Ai primi giochi online Dove Bisognava cooperare Con le altre persone World of Warcraft Ad esempio Dovevo organizzarmi Con le persone Ci sono le professioni Dovevo andare da quello E chiedergli Oh senti Mi servono le flasche Per il ride di stasera Alle nove Che ti devo andare a prendere Cioè Cominciare a socializzare Conoscere persone Che non fanno parte Del mio gruppo Come introdurmi Quando ci sono Con persone nuove Tutte queste cose Mi hanno trasformato Poi ho iniziato YouTube Quando ho iniziato YouTube Io non mi facevo vedere in faccia Mi vergognavo Avevo paura Di farmi vedere Del mio aspetto Di qualsiasi cosa Poi piano piano Mi sono cominciato a far vedere Poi arrivano le streaming Il fatto di dover parlare Dover interagire Con le persone Mi ha cambiato Come persona Mi ha reso più estroverso Di quello che sono Da introverso Che ero Mi ha trasformato Questo per dire che Il mondo del web Non è Allora Sì è pericoloso Perché è vero Ci sono parti Negative e parti positive Ma bisogna Saper Andare E saperle gestire Come in tutte le cose Come pure andare fuori A che cazzo Ne so A San Lorenzo Che poi lì Però vedi Quanto è importante La cosa che hai detto tu Io prima ho sentito Che tu ci hai avuto L'appoggio pure Della famiglia La comprensione Anche se non c'era Quindi che è successo Vedi un filtro In questo c'è stato Non è stato il mondo Dove tu ti dovevi rifugire Anche dalle persone A teccare È stato il mondo Dove tu trovavi conforto Quindi che hai fatto L'hai preso come punto di partenza Hai avuto un buon filtro E piano piano Sei evoluto E questa evoluzione Ti ha portato anche Ad uscire fuori Da quello che era Il mondo web Ma tu prova a immaginare Se avessi avuto Tutta la famiglia contro Nessuno ti avesse dato Un filtro Perché tante volte Ne abusi Lo fai di nascosto Esatto Cominci a fare queste cose Perché c'è il fatto Di non poterlo fare E ovviamente Quando ti si mettono Dei limiti Ti si mette un No questa cosa Non si può fare Robaio tu che fai Cazzo io la faccio Nessuno mi capisce Che è gravissimo Cioè Tu magari La tua famiglia Non comprendeva bene Quello che facevi Però ti ha dato Dice vai Vediamo un po' Che succede Fammi capire anche a me Che succede qui Se io invece sento Che la persona La mia famiglia Addirittura Non mi parla Non posso parlare Di questa cosa Quindi io ho questo Divento positivo Provocatorio Perché non posso Parlare con nessuno L'unico posto Dove io sono Accolto Dove sono Coccolato Dove posso esprimere Il vero Giorgio È internet E quindi vado Solamente lì Quindi ecco perché Il messaggio che manda Sta persona È completamente Demonizzante Perché tu dovresti Spiegare Di quanto serve Una comunicazione Che ne so Già una madre Che va da un figlio Che cosa ti stai vedendo Pure se non ci capisce Una parola Già il fatto Che il figlio Si renda conto Che c'è una persona Accanto Che apre una porta Può essere una cosa Che è veramente utile E allora lì Poi se ne può parlare Ma non in questi modi Lui ha sbagliato totalmente Sono i modi Sono i modi Da Da demonizzare In questo caso Perché lui sta demonizzando Tra l'altro Mettendo nel calderone Tutta la roba Nuova Giovane Che lui vuole appunto Riportare all'attenzione Dei genitori In questo servizio Promette Demandone Ulteriori approfondimenti Nel suo libro Che magari poi La gente si va a comprare Proprio per questo motivo O si va a leggere In qualche modo Soprattutto perché non l'ha fatto Col gioco d'azzardo Cioè nel senso Il gioco d'azzardo È anche quello Una dipendenza da comportamento Perché Max Perché Max Perché quello si sa Quello si sa Che fa male Capito Quello è noto È risaputo Quello è brutto Così come anche L'accostamento Alla cocaina In realtà Tu l'hai fatto In maniera più scientifica Lui l'ha fatto Secondo me In quella presentazione In quell'ambito Per associarlo A qualcosa di brutto La cocaina Ma poi non avrebbe Era sensazionalistico Perché il gioco Come una cocaina Esatto Non avrebbe suscitato Questo scalpore Parlare del gioco d'azzardo Sì esatto Anche perché il target Probabilmente ne soffruisce Magari non lo so Anche perché Boh è legalizzato E tassato Sì appunto Ma vabbè Quello anche il videogioco Però in generale È una cosa Come diceva Raiden Risaputa E avrebbe venduto Meno libri Probabilmente Sì Però ripeto E quanti ce ne sono Sul gioco d'azzardo Eh appunto Secondo me il focus Qui va messo Sul discorso politico Cioè finché Si limita a fare Marchette per i suoi libri Può Danneggiarci relativamente Perché ripeto Il target Spesso è quello Che ha in mano La vita dei propri figli Quindi magari Un approccio Non consapevole Da parte dei genitori Causa La pessima informazione Avrebbe potuto Tarpare le ali Ad un power Nel suo caso Che ci lavora Ed ha costruito Una professione Con questo In ambito politico I cazzi sono ancora Più grossi E venosi Comunque Andiamo avanti Entrata pure Emeliodors Emeliodors Chi è questa persona Bella bella È il lord Sto a corcellulare Però mi condivido tutto Dai dai È perfetto Perfetto E lei è un uomo Che sta ore e ore Per fare i tornei Avrà molto da dire Eh beh è vero Scusa È vero Mi è piaciuta l'enfasi Vabbè non penso Di aver detto qualcosa No 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 Che è che qua ci posso Anche un altro quesito Perché noi parlavamo Di power Però giustamente E non tutti Hanno avuto La sua bravura Eccetera 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 Quindi ci stanno Molti ragazzi Io spesso ne ho parlato Dell'ambiente di GTA Solo perché ho potuto Guardarlo con i miei occhi Che passano Tanto 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 tempo Ma che comunque Stanno ancora inseguendo Il sogno E che stanno Trascurando molte cose Quindi Quindi Eccolo Grande me Ragazzi Una cosa da dire Non c'è rientro Ma metto le cuffie Ok Vai Giorgio Finisci pure Io una cosa Io credo che noi Che abbiamo vissuto L'inizio di internet Le sue evoluzioni Avremo una mente Molto più aperta Alle novità E i cambiamenti Che potrebbero arrivare In futuro Rispetto a quella Che è la vecchia generazione Perché siamo cresciuti Con un costante cambiamento Delle cose Nei modi di comunicare Nei modi di relazionarci Nel nostro divertimento Che quindi Quando arriverà la novità Non saremo lì a demonizzarla Come fa la vecchia generazione Cioè secondo me Tutti noi qui dentro Chi poi magari lo sarà Chi non vuoi robare Saremo dei grandi genitori Almeno Perché sono sicuro Che abbiamo Un'apertura mentale Dall'alto mar a qui sopra Avremo un'apertura mentale Noi Rispetto alle vecchie generazioni Che darà Molta più tranquillità E serenità A quelli che saranno I nostri figli Cosa che invece Le vecchie generazioni Non stanno facendo Perché mi è capitato Tantissimo Di sentire persone Che vengono Completamente bloccate Come se i giochi fossero il demonio E devono andare Dall'esorcista Ragazzi io direi Di finire il servizio Di finire il servizio Un po' più forte Ok Di finire il servizio Questa è la mia voce Tanto mancano tre minuti Poi lasciamo la parola a merito Però Voglio dire una cosa Perché le donne Guardano il Cerbero Podcast Guardate che quartetto Di freni qui Stavano di live Di soli chat Porca troia Only chat Amminsed Al cerchio Questa è un'operazione confettata Vogliamo aumentare Il nostro pubblico femminile Andiamo va E lì ho iniziato Il percorso di vita nuovo Proprio legato Sull'arte da mare E la mia vita Piano piano È cambiata In maniera graduale Orientandomi sempre Sulla realtà Sulla vita reale Adesso la vita È cambiata molto Sono papà Marito Papà di due figli Di una bambina E un bimbo Cerco di Donandomi Giorno dopo giorno Vivendo Periodo dopo periodo Come Chiara ci insegna L'arte da mare E la spirit therapy Di crescere E di essere sempre più cosciente Come vivo Cercare di non perdere tempo Nelle cose Che sono irreali E vivere il più possibile Nella gratitudine Che devo dire Che ho avuto nella mia vita Darla verso gli altri Quindi gratuitamente Ho ricevuto Gratuitamente Cercherò Sempre di dare Colpisce questa testimonianza Fa impressione Ma non sono casi rari In Italia Si stima che ci siano Centomila Quelli che in Giappone Chiamano Ikikomori Vivere indisparso È vergognoso Questo che c'entra Questo è vergognoso Fortunatamente Abbiamo già fatto Diverse live Sull'argomento Ma non c'entra in cazzo No ma Poteva dire benissimo In Italia Ci sono centomila Ikikomori Centomila meccanici Sarebbe stata la stessa cosa Cioè Tira fuori dal cilindro Un argomento Che è un altro Calderone Un altro vaso di Pandora Proprio Io qua Ho notato una cosa Particolare Perché adesso sentirete Che lui dirà Ce ne sono centomila Ikikomori E migliaia Sull'orlo Si Allora adesso Io non so Lui che studi ha fatto Però Se facciamo diciamo Centomila Per duemila Viene fuori Un numero Che è maggiore Dei giovani In Italia Credo Ok Cioè Secondo me C'è proprio Una superficialità Nelle parole Che escono fuori Da questa persona Poi magari Chi ha effettivamente Scritto quel libro È più competente Di lui Io non lo so Perché non l'ho letto Il libro Però So proprio Numeri A caso Cioè Secondo lui Ci sarebbero 20 milioni Di potenziali Ikikomori In Italia Non ci sono 20 milioni Di giovani In Italia Com'è possibile Vabbè Però aspetta Io ho capito Che duemila Compresi nei centomila Sono sull'orlo No 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 Lui dice Lui dice Ce ne sono Centomila Già Già Ikikomori Ikikomori E poi Per ogni Ikikomori Ce ne sono migliaia Che stanno sull'orlo Per ognuno Io pensate Ho capito un'altra cosa Ah sull'orlo Di diventare Ikikomori Io ho capito un'altra cosa Cioè Quelli più duemila Sull'orlo L'orlo della morte Magari Della cadastra Tutti quanti a casa legati Ah quindi sì Centomila già Più duemila Sull'orlo Siamo tutti sull'orlo Abbiamo capito un cazzo Vabbè Scusate poi Posso dire una cosa Sull'esempio Che della persona Della testimonianza Che c'è Allora innanzitutto Qui c'è un errore Proprio di fondo La persona Dice che Ha imparato Come gli ha detto qualcuno Ha imparato a dare amore E a esprimere amore Allora Il problema Di una persona Che ha una dipendenza In generale Non è quella Dell'esprimere O del non avere Di non avere la capacità Di comprendere l'amore Il problema poi È Non è nemmeno Che devi capire Qual è la realtà vera E qual è la realtà virtuale Perché se io In questo momento Sto vivendo internet E sono con voi Su un discord Per me è una realtà vera Che però vivo virtualmente Quindi quello che bisogna fare È trovare un punto di incontro Tra realtà virtuale E realtà reale Reale tra virgolette Questo per comprendere Però Che ci permetta Di capire E soprattutto Bisogna capire Questo ragazzo Che tipo di problemi ha avuto Come mai è cresciuto così Come mai è rifugito Da se stesso Che cosa gli è successo Se addirittura Gli hanno fatto tagliare Le cipolle Per come terapia Vuol dire che stava Veramente infognato Magari Sì sì Metti la cera Togli la cera Vediamo che cosa gli è successo Cioè se prendiamo Per esempio Gianluca, Davide e Simone Magari Che soffrono di questo tipo Di dipendenza Ci avranno magari Tre storie diverse E tre modalità diverse E racconteranno Delle cose diverse Non puoi prendere La storia Strappa lacrime Una storia Strappa lacrime Che fa vedere Perché non hai preso Pure una persona Che tramite il web Ci ha avuto del successo Ma noi abbiamo Tre storie Strappa lacrime Sulle dipendenze Io con GTA Lui con Magic Lui con le scimmette E Marco Marco non si può dire Al piano Non web Andiamo avanti Vabbè Regista del Cerbro Podcast Quella è la È una delle cose Che mi ha dato Più effetti collaterali Bullismo digitale Guità Start a sta live Guità a due camp Invece svegliano Cyberbullismo Top K2K I kikomori Vivere in disparte In Giappone Sono più di un milione Ragazzi Ma anche trentenni Che vivono Perennemente chiusi Nelle loro stanze Costantemente connessi A una realtà Che non esiste E per ogni I kikomori Ce ne sono migliaia Che sono al confine Che hanno Quella tendenza lì Ma la differenza È che se io Lei Chiunque di noi Ha un figlio Drogato Però diceva in Giappone Non in Italia Allora ma anche se fosse in Giappone Se per ogni Kikomori giappone Ce ne sono migliaia Ci sono più di kikomori Che persone in Giappone La frase è iniziata Con in Italia Quindi Pensavo stesse parlando Dell'Italia Lui dice No ma anche se fosse Il Giappone In Giappone C'è un milione Di kikomori Se per ogni kikomori Ci fossero migliaia Di potenziali kikomori Ci sarebbero più kikomori Che persone in Giappone Sì sì Non ha senso Non ha senso Sono numeri a caso È tipo l'ingegner cane Mille 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 Problema E lo affronta Tutti noi Io stesso Preferiamo non affrontare Il problema Dei nostri figli Che non sono Meno drogati Dallo web Rispetto alle droghe Tradizionali Perché questo ci consente Di non renderci Responsabili Così fan tutti È l'epoca Ma così fan tutti Stiamo devastando Una generazione Per questo il sottotitolo Del libro Coca web Una generazione Da salvare La semplificazione Che a giocare Giocano tutti Quindi è facile Trovare una cosa In comune Fra tutte queste persone Estremamente depresse Magari giocano Però fanno pure altre cose Magari giocavano a calcetto A 12 anni Felici con gli amici L'hanno fatto tutti Quindi è quello il motivo Ma poi secondo me Lui usa Usa una forma Cioè Delle frasi Impostate in una maniera Non so quanto Volutamente A questo punto Perché potrebbe anche essere Stata una frase Buttata lì Però in maniera preoccupante Che se l'ha fatto apposta L'ha calcolato benissimo Perché lui ha detto Tutti noi Per esempio Potremmo avere Dei figli drogati Della droga tradizionale La cara buona vecchia Cocainazza No? Cioè per la serie Vabbè Quello lo sappiamo Nostro figlio è drogato Sti cazzi Cioè Cerchiamo di portarlo In riabilitazione E via dicendo Ma quando si parla Di droga del web Che non sono Meno drogati Sotto questo punto di vista E lì E come facciamo È un po' difficile Vedete come Con la costruzione Di queste frasi Si pone La dipendenza Da web In questo caso Come quasi Più grave Della dipendenza Da droga tradizionale Cioè per come L'ha posta lui È una Una formazione comunicativa Che effettivamente Pone In una posizione Di maggiore gravità La Il fatto Che siano drogati Al web È proprio Non so quanto L'abbia fatta apposta Ma se l'ha fatta apposta Allora O è un genio Oppure uno che Parafasi I parlamentari del futuro Saranno tutti drogati Di web Quindi Tutta la politica Si basa sul web Scusami Tutta la politica Si basa sulla propaganda Fatta sul web Vero Adesso si Ma tutto Si fa sul web Non ci sono più I mezzi di prima Televisivi Cioè non abbiamo più Il Buon Natale Di Berlusconi No? Bellissimo I cartelloni In giro Se quello è leggendario Il web è una propaggine Della nostra realtà E ormai fa parte Della nostra realtà Come diceva Max Noi viviamo una realtà Anche attraverso il web Il problema è quando Questa realtà Si sostituisce Alla realtà vera E che quindi Noi viviamo solo Quella realtà E quelli sono i casi Di dipendenza dal web Ma sono da circoscrivere Da contestualizzare E da studiare come tali Perché altrimenti Tutti siamo dipendenti Dal web Perché tutti facciamo Cosa sul web Anche se non siamo Streamer e youtuber Un sacco di gente Vive il proprio lavoro La propria attività Comunica attraverso il web Ma ormai da vent'anni Ma almeno vent'anni Quindi di che stiamo parlando Ora chiaramente È solo se veramente Non fai altro Che non hai un intro Non hai un posto Nel mondo Lì magari C'è la dipendenza Ma come hai detto tu Prima Se te va a scammare Qualcos'altro Ma se uno lo fa Nel tempo libero Ma anche Supponiamo questo Io riesco Che ne so A lavorare A studiare E magari poi Sto sette ore a giocare Ma saranno cazzi miei Se poi magari Io ti dico Io sto Undici ore a giocare Oggi non ho studiato Magari Perde il lavoro E lì Il discorso è ovvio Che cambia Ma se tu mi poni Attenzione Non fateli avvicinare lì Perché altrimenti C'hai una mentalità vecchia Stai zitto Mi ci pulisco il culo Col tuo libro del cazzo Con il DDL Poi Me lo compro Con i soldi miei E poi visto che ci posso fare Quello che voglio Mi ci pulisco il culo Giusto Stiamo d'accordo A me ha colpito A me ha colpito Il suo ignome fistofelico Suo? Sì sì C'è la per tutta l'intervista La cosa che volevo dire È che lui È che lui si perde Parla di Kiko Mori Perché prende subito La cosa più Estrema Quella che porta di più E che spaventa Quindi C'è questa politica Del terrore Quando in realtà Quello che interviene Sono tanta altra roba C'è per esempio La nomofobia La FOMO La MOMO Quindi magari La paura che gli altri Non pubblichino cose Perché stanno facendo Perché non vogliono far vedere Che le stanno facendo Per escluderti Oppure La paura di rimanere Sconnessi Di perdere La possibilità Di essere connesso Perché la connessione A internet Il tuo telefono È la tua batteria O per esempio C'è la ring anxiety O la vib anxiety Il sentire il suono Del telefono continuamente O il sentire Come se vibrasse E che quindi Ti porta un'ansia enorme C'è un sacco di roba Che viene prima E soprattutto Parlarne in questo modo Non permette Un'evoluzione Anche quando c'è Un qualcosa di estremo Per esempio Prendiamo una cosa stupida Il bullismo Se noi prendiamo il bullismo Il cyberbullismo È diverso Dal bullismo Ci sono delle dinamiche simili Ma per esempio C'è la possibilità Di essere continuamente Messi sotto dal bullo Che era una volta Tu invece magari Andavi nel percorso scolastico Tornavi a casa Ciavi l'ambiente sicuro E quindi Se tu allontani ancora di più Perché dico questa cosa Che apparentemente Sembra non c'entrare nulla Perché se tu dici queste cose E allontani ancora di più Le generazioni E le persone Da quello che sta accadendo Questo tipo di problematiche Aumenteranno in modo sostanziale Ed esponenziale E nemmeno ce ne renderemo conto E quindi noi non avremo Nemmeno il vocabolario Per comprendere Quello che sta succedendo Un ragazzo Ci esprimerà qualcosa E noi non sapremo Come identificarlo Perché se io adesso Dico bullismo So che succede Vittima carnefice Così che sono dinamiche Che ci sono Ma il cyberbullo Può contattarti via mail Via sms Via whatsapp Via discord Via team speak Ovunque tu sia E cambiano delle dinamiche importanti Poi ricordiamolo Comunque che il bullismo Non ti rende forte Cyberbullo perché mai Cyberbullo cosa fai Cyberbullo perché mai Perché a me Cyberbullo perché mai Cyberbullo perché mai Cyberbullo perché mai Cyberbullo perché mai Finiamo Scusate voi non sapete Cosa è questa cosa Vai finiamo un secondo No vai vai Giorgio Se vuoi vai No però una cosa Volevo dire Per esempio Flemma che lui ha fatto GTRP Pure for fun suo Io per esempio direi A molte persone Di provare a fare GTRP Invece Perché è come andare a teatro Se vi posso dire Una sorta di teatro Amatoriale Se così vogliamo dire Un improv Trovatelo Sì Vai lì dentro In persone qualcuno Con un tuo background Che crei Che si evolve In base alle situazioni Cioè ti dà anche Molti spunti Secondo me Relazionali Ma anche di come Immedesimarti in situazioni Che possono essere Magari lavorative O di spettacolo Perché è particolare Come cosa Cioè per esempio Tu flame Non fai un persoggio Che si discosta tanto Da chi sei tu Però in altri casi Ci sono persone Che inventano Completamente Un altro personaggio Cioè diventando Qualcosa di diverso E provando Come quello che si fa In una provatoriale Ragazzi Vi direi Invece di provarlo Ma Poi quando non Stai rilassionare Con le persone Devi sapere Ti posso dire una cosa Secondo me Se i complottisti Giocassero a D&D Risolverebbero un sacco Dei loro problemi Ben tempo Che si diceva Che chi giocava a D&D Diventava un satanista L'avete fatto pure In servizio Non so se vi ricordate Che ascolta la musica Rock Si diceva Si diceva E dopo Si è detto Per tanti anni Che ascolta Metal Carter Questo mi sa che è vero Tutta la corpata Il TG1 Guarda che la copertina Del libro È simile a questa Poi la vediamo Eh vabbè Ma non è che ne avevo dubbio Stiamo lì come stile Stiamo lì come stile Ecco qua Però possiamo dire una cosa Questo non dà dipendenza Ma come no? No Decisamente no Comunque sono d'accordo La traccia 5 Io sono d'accordo con Power Infatti ho letto L'altro giorno Un paper Dove si faceva Un'associazione Tra il teatro Di Vittorio Gasman E Luke 4316 Ah curioso Sì 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 Poi c'era anche Napoletanos Con Carmelo Bene Ah Vabbè Quello l'avevo visto Però il primo Sai che non me l'aspettavo Sì 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 Bello Ma Luke Old version Oppure Luke attuale Beh ci sono varie fasi artistiche Quindi vanno analizzate Singolarmente Hanno fatto tutta la costruzione Andiamo avanti Vabbè No beh io chiedo Che restano parti importanti Perché a volte Vira sul Levi E a volte Vira sul Good Certo Quindi dipende Sul Good Ma arriverà il momento Come per il tabacco Insomma c'è stato un momento In cui si è preso atto Del fatto che Fumare fa male Io fumo Ma so che fa male E credo che sia giusto Che le compagnie del tabacco Investano parte Del loro fatturato Per dire Il tabacco fa male Ecco vorrei che le compagnie Del web Destinassero parte Del loro fatturato A dire Il web Fa male Ai giovani E sto preso Le compagnie del web No no regà Fermi un attimo Le compagnie del web No no Cioè questa cosa Mi fa impazzire L'internet L'internet Perché ha dovuto Aggiungere Ai giovani Perché ha dovuto Aggiungere Ai giovani Cioè a casa mia L'unico bruciato Da internet È mi padre Ok Ok Mio padre Se sveglia la mattina E dice che Nei vaccini C'è sta il veleno Dei serpenti Va bene E non ci ha pensato lui Ci ha pensato qualche Tizio sul web Ma staccagli Facebook No Fai Dei fai Finta che l'hanno bannato Non hai capito È incontrollabile Manda duemila messaggi Tutte le grammi Ma se che cazzo lavora Naccia Ma gliela farai Sfilagli il cellulare O banni A mio padre Fagli mettere tutto in word Fagli scrivere tutto in word In bagheca A tutti i gruppi telegram Anzi Fagli un post in bagheca Però Prima No No Guarda Che è un suggerimento Eh Una volta in privato Vi faccio vedere La mia conversazione Con telegram Con mio padre Sono 8000 messaggi al giorno Tutte le peggio complottate Allucinanti Lammate Cioè Capito Usciamo dal matrix E I cinesi Con la Cina del DNA Cioè Tutto C'è tutto C'è tutto E questa è colpa del web Altro che Ai giovani Tutti hanno i problemi Se li vanno a cercare Perché Perché Nel caso di mio padre Evidentemente È stata soppressa La sua creatività Dalla vita Di tutti i giorni E quindi Invece Di appunto Giocare a D&D E quindi Trovare uno sfogo creativo In un mondo Il satanista La sera Sì esatto In un mondo non reale Ha finito Per far diventare Il mondo reale Quello È allucinante È reale Ma pure Anzi Existence Interessante Però secondo me Che ti lavano il cervello Pure quello Sì ma poi Al di là di questa cosa Che effettivamente è interessante Secondo me È proprio sbagliata la frase Che va A equiparare la sigaretta All'web in generale Perché la sigaretta Mi fa male E basta Ma la sigaretta è una cosa fisica Te la fumi C'è un atto Non è che se lo sento su Facebook È come fumarmi una sigaretta Quella cosa fa male Senza sì Senza ma Il web Non per forza Non fa male Per forza La sigaretta è una cosa fisica Che ti fa male Se la fumi Non è che se Facebook Mi fa male In buona sostanza Voleva dire Esattamente come sulle sigarette C'è scritto Il fumo fa male Vorrebbe che Le compagnie del web Che è tipo Le compagnie delle indie Cioè non si capisce Che cosa sia Di precisa Sta compagnia del web Dicano che il web Fa male E poi tra parentesi Ai giovani E ho capito Però è un po' Come il tasto Sei in maggiorenne Oppure no Perdonatemi Il controllo Ma quindi se Instagram Mettesse un disclaimer Che dice Non stare troppo tempo Su Instagram Perché potessi fare Io sarei pure Non è che mi darebbe fastidio Ma sapete che ho messo Ho messo su Instagram Una cosa che non sapevo Nemanco che c'è stava Perché io comunque Non è che sono molto esperto Che smanetto Instagram Che tipo Mi segnala Dopo che Dopo un'ora Che C'è sto Tipo Sì sì Può essere Ti dice Il tempo Che c'è Trascorso Non mi è mai Arrivato un cazzo De messaggio Ti giuro L'avrò messa Qualche mese fa Però che voglio raccontare Una cosa particolare Voi sapete Come funziona L'algoritmo Di Facebook E c'è lavoro Comunque Lo sa Marco Chitano Non lo sappiamo Lo sapete Che è volto Evidenziare Notizie Dove ovviamente Sotto Ti invogli a commentare O comunque A interagire Quali sono queste notizie Notizie dove ci sono Ovviamente Flame e tossicismo All'interno Che può andare Dalla disinformazione Può andare O a cose volte All'odio E alla politica E così via Del motivo Per cui anche se voi Non seguite determinate Pagine o argomenti Vi compaiono Nella Nella vostra Bacheca Nella vostra home È una cosa È una cosa particolare Di Facebook Questa che è stata Scoperta Dall'altro Si sapeva da anni Però ora è proprio Ufficiale L'hanno dovuto Che ti rende sempre Più complottista Perché comunque Te consiglia Pagine complottiste Poi sul web Si litiga e basta Ma sono gli stessi post Dove si litiga Essere spammati Dallo stesso sito Poi vanno in giro Tutti i vestiti Nero Con i mantelli Lucidi Lunghi Come gli accorgimenti Che hanno avuto Nelle serie tv Che per esempio Tratti nel tema Del suicidio A inizio della serie tv C'è scritto Se hai avuto Di questi problemi Rivolgite a uno specialista In questa serie Viene affrontato Il tema del suicidio Del bullismo Cioè temi sensibili Che si sono particolarmente Resi noti Negli ultimi anni E che vengono quindi Diciamo Anticipati Da questa sorta Di disclaimer Il fatto è che I disclaimer Non sono mai Risolutivi Ma se non altro Come dire Possono portare All'attenzione Soprattutto di chi Non le sa Certe cose Un problema Che potrebbe essere Poi tangibile E concreto In un secondo momento Non è una soluzione Però Proprio su questo Non avrei troppo Da ridire Avrei da ridire Anche una volta Ancora una volta Sulla genericità Con cui lui affronta L'argomento Perché ripeto Le compagnie del web Poi prima stava parlando I videogiochi Nei videogiochi Per esempio C'è già il Peggy Che è Peggy o Peggy Che è tanto Vituperato Tanto Ignorato Però in realtà È una forma Di consuetudine Di norma Non scritta Che viene posta Sulla copertina del gioco C'è scritto 18 più E a quel punto E a quel punto È una sorta di Come dire Manleva delle responsabilità Da parte delle aziende Perché tu Se il genitore Hai acquistato il gioco 18 più A tuo figlio Che ne ha 8 di anni Chiaramente capisci Che noi te l'avevamo detto Quindi si riduce Più o meno a questo Ci può stare Ma non è una soluzione Adesso lascio un attimo Però la Max Se voleva parlare Comunque sì No volevo dire Che secondo me Il controsenso di base È che È dire Come fanno le aziende Del tabacco Che promuovono Una cosa che fa male Io lo so Però devono fare Un investimento Per dirti Che non dovete utilizzarlo Perché fa male Allora a questo punto Siccome fa totalmente male Il tabacco Non dovrebbe più Essere prodotto Non che le aziende Ti danno Devono investire Dei soldi Per dirti Che non è Che non è una cosa Che fa bene Perché che non è Una cosa che fa bene Ok Lo sappiamo È una cosa Se lo fumassero Solo i giovani Avrebbe detto Di eliminare le sigarette Completamente Penso Esattamente Questo è pure Il controsenso Non ha senso Questa cosa qui Anche perché Dire una cosa del genere È innanzitutto Come al solito Limitante E non c'è Un'educazione emotiva Al mondo del web Che sta diventando Parte integrante di noi Cioè Ormai noi Con il web E con internet Con i videogiochi È una cosa Che noi ci viviamo E ci conviviamo Continuamente Se noi domani Abolissimo le sigarette Al di là delle dipendenze Che sono cose Che poi È un'altra Stiamo parlando di un qualcosa di più Però noi potremmo sopravvivere Senza il web Ormai abbiamo delle difficoltà Perché la nostra Società si basa Proprio sull'impronta web Quindi sulle connessioni Per esempio Noi in questo momento Siamo connessi grazie al web Quindi è una cosa costruttiva Il videogioco può essere Una cosa costruttiva Non è totalmente distruttiva Quindi È Di base proprio È un controsenso Partire nel dire Fate come le cose del tabacco Che dicono No guardate ragazzi Fa male Devono investire dei soldi Per dire che fa male E basta Ok però Allora bisogna investire sul fatto Che bisogna dire Che fa bene anche il web E che utilizzato in un certo modo Fa bene all'essere umano Vero Il discorso è questo Cioè tutti i disclaimer Che siano sul fumo Sul gioco ad azzardo Anche Negare la possibilità Di pubblicizzare Determinate cose Come il gioco ad azzardo Come le sigarette Sono Come diceva anche Raiden Come diceva Max Cose accessorie Cioè deve esserci Una Presa di posizione netta In relazione All'informazione Corretta su questo Anche magari Un consumo All'utilizzo Ok del web Questo deve essere fatto Punto Cioè nel momento In cui tu unisci Magari informazione E anche una comunicazione Più spicciola Come questa Allora Unisci le cose Levi magari La possibilità Di sponsorizzare sigarette E qualcosa Qualche risultato Lo ottieni Ma se levi alla base La conoscenza È inutile Cioè io il disclaimer Lo chiudo Era quello che volevo dire Esatto Io tra l'altro Ho una Una visione Un po' critica Su Proprio su tutta Questa faccenda Perché io penso che L'aggressione Della politica Verso il web Dipenda molto Dal fatto che L'Italia Non ha Praticamente Il minimo Controllo Economico Su questo mondo Cioè La tv Che alla fine È il web Prima del web Non è mai stata demonizzata Perché era Tutta sotto il controllo Della politica Quindi avevano L'interesse Che diventasse Endemica Nella popolazione E il web Invece Gli sta sfuggendo di mano Perché loro Non ci guadagnano Quasi niente E Un'altra cosa Più Diciamo Reale Perché non c'è Il disclaimer Sull'alcol Ad esempio Perché Su una bottiglia di vino Non ci dovrebbe essere scritto Quello che c'è scritto Appunto Mai sulle sigarette O quello che vorrebbe scrivere Sui videogiochi Bevi responsabilmente Ogni tanto Che bevi responsabilmente Sulle pubblicità Oddio Nelle bottiglie di vino Capita Capitava Ora non lo so Sul vino non credo Sulla pubblicità del vino Sì però In tv Se andava Ma non è sarcasmo La pubblicità Bevi responsabilmente Cioè Io l'ho sempre Vissuta Con una freddura Voglio fare un esempio Ho avuto l'opportunità Di lavorare In Francia Nel 2016 Ero Sopra Marsiglia In Provenza E lavoravo In questo ufficio Che si occupava Ovviamente Riguardante il mondo Di videogiochi E vi posso dire Che vivere in Francia E vedere quindi Come si comportano Le persone Al lavoro Al Il fatto che lo smart working Era la normalità lì Tra l'altro Cioè io poi Mi hanno fatto tornare in Italia A lavorare in smart working Da qui per esempio Ma soprattutto Proprio come funziona lì L'integrazione con internet Già in Francia Sono molto più avanti Rispetto a noi Per quanto riguarda questa cosa Nel mondo dei videogiochi Io vi faccio un esempio Ci sono tanti ragazzi Giovanissimi Se pensate in Fortnite Perché si può competere Da 13 anni Che competono in Francia Molti giocatori Tra i più forti E i più famosi Al mondo Molti sono francesi E questi ragazzi Quando loro Devono andare A accumulare i crediti Per le superiori Conta come i crediti sportivi Per un'attività sportiva Fare le competizioni A livello Semiprofessionistico O professionistico Allo stesso tempo Ci sono incentivi Che vengono messi Dallo Stato Per educare A internet In Francia Che ricordiamo Che è uno dei paesi Comunque Dove Hanno un sacco di problemi Con la scuola Tra le altre cose Quindi non è che Stiamo parlando Di un paese Dove fila tutto liscio Ci sono tanti incentivi Nel far conoscere Il mondo dell'internet Il lavoro Tramite internet E tanto supporto Dallo Stato Per le start up Che digitalizzano Diciamo questo mondo E vanno a creare Opportunità di lavoro extra Che è poi Quello che sta succedendo Però sai che c'è Che in Italia Che che ne dica Adesso lui Con Coca Web Non si reputa L'internet E la sensibilizzazione A questo Abbastanza elevato Da inserirlo Magari a scuola Perché secondo me La soluzione sarebbe A scuola Facciamo un paio d'ore In cui Si insegna Ai ragazzini A gestire Un social A vedere le fake Fake news Fai vedere la fake news Come capire Se è fake news O no Una cosa Ma tutta la popolazione italiana Dove per capire Come bisogna Interagire con il tuo Compagno di squadra Anche se magari Lui sbaglia E ti va a fare Un danno nel gioco Però lui è un essere umano Cioè Insegnare queste cose Ai bambini Secondo me Li porta naturalmente Poi a usare In maniera più responsabile Il gioco Ma se glielo dici Dici Vabbè Adesso mettiamo Le ore di social E di gaming A scuola Immagino le insurrezioni Genitoriali Incitazione Incitazione al consumo Malsano Di videogiochi Ma poi c'è questa Dicotomia Questo contrasto Tra la formazione L'istruzione tradizionale E quella che è L'istruzione Meno convenzionale E l'unione La fusione Delle due cose Non avviene quasi mai Non avveniva Quando andavo a scuola Io Figuriamoci Cioè no Figuriamoci Speravo che avvenisse Nel corso degli anni Non è ancora avvenuta E anzi L'impostazione Dell'istruzione Scolastica In generale È ancora di stampo Piuttosto vecchio Cioè Non è che non si insegna Come stare sui social Non si insegna neanche Come compilare Un 730 Cioè quello che Non si fanno cose Non si fanno cose Che io anche 20 anni fa Reputavo Fossero più utili Di tante altre cose E non voglio dire L'ora di religione Forse nel 2022 Siamo arrivati A fatturazione Elettronica Obbligatoria Forse ce l'abbiamo fatto In che senso L'ora di religione Scusate Scusate Io vi saluto Che me ne vado Dopo questa domanda Scusate Devo andare via Grazie di tutto Ragazzi Ciao Max Ciao Ciao Max Ciao No Motori fa tutto Però si è vero Secondo me Ma poi il videogioco Ragazzi Ha molti spunti Secondo me Per la fantasia E utilizzare il videogioco Anche per comunicare Qualcosa Di importante Io prendo l'esempio Di Minecraft È un gioco Che io non gioco Non conosco Comunque Abbastanza bene Però Allo stesso tempo Minecraft Credo sia un gioco Ricreativo Incredibile Per un Per un bambino Perché dà Quell'apertura In un mondo Comunque safe Di dare spazio La creatività Cioè io ho visto Ragazzini Di 13-14 anni Provare a ricreare Opere d'arte Cioè le meraviglie Moderne Su Minecraft Perché gli era stato Chiesto come compito In Francia Mi era capitato Questa cosa Quindi loro dovevano Ricrearlo su Minecraft E anche studiare Ovviamente Quella meraviglia Che gli era stata Assegnata E loro in gruppo Si organizzavano E creavano Queste cose È un'idea geniale Impira una cifra Studià Grandi La vediamo Come una cosa Simpatica Come una cosa Nuova di un maestro Una maestra Illuminata Che ha fatto fare Questa cosa Straordinaria Però Non è la norma Cioè Secondo me Gli strumenti Che ci mette a disposizione Il web Che ci mettono a disposizione Anche i videogiochi Potrebbero essere Utilizzati In una maniera Molto più formativa Nell'ordine All'ordine del giorno Cioè Non visto come Una volta in Francia Ho visto sta cosa Che è una cosa incredibile Si potrebbe fare Sistematicamente Quasi da Trasformarlo In una Unione delle due cose E associare Il momento Dell'istruzione A qualcosa Anche Di ludico Ma che abbia Fini formativi Senza necessariamente Farlo diventare Né troppo l'uno Né troppo l'altro Cioè Né troppo videogioco Ok adesso giocate Vabbè basta Né troppo Vabbè Sì però che palle Devo giocare a Minecraft Solo per studiare Ecco Ci vogliono le due Una buona via di mezzo Una fusione Che può funzionare Ma ancora Non ci siamo arrivati Viene vista Come un'eccezione Appunto L'ho visto Una volta In Francia Sì No ma Secondo me Il punto Di questa cosa qui L'ha centrato Meriador È un discorso Sì sì No sono serio In realtà No no Sono di Pure lui Mi sono accorto Dopo mezz'ora Che era un fotogramma Cioè non capivo Era immobile Allargamò il braccio Pensavi che Sera Tipo Barzamato Non si muoveva Mi ha fatto preoccupare Eh no è tagliato Così così va bene Un po' più piccolo Aspetta che ci siamo quasi Aspetta Perfetto Devo rimanere così Per tutta la live Vai Sta cosa la fanno Tutte le ore Vabbè È difficile Stavi dicendo Che aveva preso il punto Sì Sul discorso ovviamente Politico Nel senso che La politica È riuscita Perfettamente Negli anni A controllare La televisione La Rai È in mano Al partito di maggioranza La Mediaset Va back Un po' di caffà Per quanto riguarda internet Non è Per il momento E quindi C'è stato solo L'interesse Nella demolizione E non Nell'enfatizzazione Delle cose positive Andiamo avanti Intanto è quasi finito E c'è anche La splendida copertina Guarda che bell'album Death Metal Qua Copertina top Esiste un limite In Italia Per iscriversi Ai social network Le norme ci sono Norma europea 16 anni Norma recepita Dall'Italia Prespinta in modo particolare Al Movimento 5 Stelle 13 anni I minori di 13 anni Non potrebbero iscriversi A un social L'87% Dei minori Di 14 anni È iscritto A un social Perché Perché nessuno controlla E perché i genitori Spesso sono conniventi Dichiarano il falso Per non avere seccature Dai loro figli Arriverà il momento Che questo verrà giudicato Riprovevole Sbagliato Che ci sarà un giudizio sociale Per un genitore Che piazza il proprio figlio Di 8 anni Davanti al telefonino Al ristorante Per non avere seccature Quando quel momento Sarà arrivato Saremo nelle condizioni Di affrontare il problema Per chi arrivi Bisogna che se ne parli Senta una domanda personale Lei se lo pone Un limite Nell'uso dello smartphone Del web Della rete Guarda io le confesso Io facevo il giornalista Dirigevo un giornale Prima delle scorse elezioni Fino a quel momento Non ero sui social Faccio il giornale Delle escort Ma che ha detto E questo è un lapsus Ragazzi Non so Dirigevo un giornale Prima delle scorse elezioni Prima delle escort Non ero sui social Ma non per un pregiudizio Perché credo di aver capito Che è una grossa perdita In quel tempo Sottratto a cose più importanti Mi sono dovuto iscrivere Ragioni di trasparenza Di rapporto con l'elettorato Ma credo che quando finirà Tutto questo Il giornale Che dice questa cosa Ragazzi Volentieri alla vita reale Grazie Andrea Cangini Senatore La vita reale Infatti noi siamo fasulli Non stiamo vivendo adesso No no Questo è existence Ma mi sentite Eccolo che è orientato Meriador Ora si Meriador Mi sentite? Sì Sì Sempre lo stesso programma Allora io non vedo voi Io non vedo voi E deduco che voi Vediate mio frizzato No no Guarda che ti Vediamo bene È un po' male alle tempie Credo però ti vediamo C'è la luce un po' gialla Però per il resto Eh non lo so Ecco Non lo so Che succede Non lo so Non mi chiarisco C'è guarda Da quando è uscito Max Che mi ha fatto sto problema È colpa sua È colpa di Max quindi Del coca web Sì aspetta Provo a levare e rimettere la web Alla dodia Io mi sono perso il momento Che stavo No Simone No Simone Sta scegliendo il personaggio Questo è Gabriele Sta scegliendo il personaggio In questo momento Hai la skin Entra Rubino Entra Rubino Chi entra Comunque la cosa Cioè che io non riesco a comprendere Il fatto No no Di Di essere un direttore Comunque di una testata Non so che testata giornalistica è Però Di non usi utilizzare Internet Come risorsa E O il web Pure Non lo so Non mi fa pensare Dire Oh cavolo Mi fa pensare Anzi questa persona Ha una grande lacuna In verità Di poterne parlare E non è il massimo Secondo me Come statement Uscersene così Sì sì Ma ha detto Il giornale O un giornale Non ha detto Quale giornale No era Forse il resto del Carlino Non ricordo Comunque è stato direttore È stato direttore Però effettivamente Ha ragionissimo Power Nel senso Per conoscere bene Un problema Devi averlo Quanto meno Esperito in parte Non necessariamente Da parte l'ESA Cioè non necessariamente Tu devi Deve averlo vissuto Attivamente Però O passivamente Insomma Devi Conoscere bene Il medium Con cui ti stai correlando E che stai demonizzando In queste istanze Perché altrimenti Sì io Va bene Ho i social Neanche li uso Sono tutti una cazzata È proprio sbagliato È proprio sbagliato Bisogna far capire Che a parte Che così Lui li demonizza In toto Non Come dire Riportando All'attenzione Del pubblico Quello che può essere Ciò che di positivo Possono dare anche i social Può dare il web Assolutamente No Le nuove professioni Si può fare tantissimo Ma non stiamo qua a dirlo Perché altrimenti Sembriamo dei boomer noi Per la serie Madonna Il social Il web è pazzesco Puoi fare un sacco di cose Lo sappiamo Però Insomma In questo modo Lui si pone proprio Totalmente dall'altra parte Per la serie È sempre una perdita di tempo In qualsiasi caso E si ritorna All'assolutismo Della frase iniziale Ovvero L'uso che non può Che degenerare in abuso Anche in questo caso Lui ripropone È tutta una perdita di tempo Quindi non c'è possibilità Che si possa trarre Giovamento O beneficio Anche economico Da un'attività lavorativa Che riguardi social Che riguardi il web Che riguardi i videogiochi Insomma Tutto questo ambito Come spreco di tempo Esatto Che poi lui a più riprese Definisce quella roba lì Cioè quella roba lì Mettendo nel calderone Appunto web Social Videogiochi Quella roba lì Di cui non vogliamo Sentir parlare È proprio Il teschio Polico Lovecraftiano Ricordiamo una cosa Ragazzi Qualsiasi cosa Non è strettamente Necessaria Alla nostra Sopravvivenza È una perdita di tempo Qualsiasi cosa Un sacco di cose Le arti La musica Perfino I cibi Stellati O gourmet O cose del genere Alla fine Nella nostra sopravvivenza Sono inutili Ma perché Li cerchiamo Per sopperire A questa perdita di tempo E farla diventare Più dolce Quindi il fatto Di poterci godere qualcosa Di farci Interessare E farci prendere da qualcosa E conoscere qualcosa Perché è quello Anche che fanno Queste perdite di tempo Alla fine Cioè Ragazzi È questo Come videogiochi Lo sono tantissime altre cose Perdita di tempo Poi però Quella perdita di tempo Ti può lasciare qualcosa Che è emotiva Come diceva Marra prima Può essere qualcosa Invece Più a livello Non lo so Morale Etico O addirittura Di importanza Culturale Non lo so Possono essere varie cose Che può essere come un buon film Un telefilm Un libro Un buon libro Beh diciamo che Se parliamo di stretta sopravvivenza Ok Però è anche vero Che l'uomo da sempre Ha provato ad esprimersi In qualche modo No? Certo L'uomo cercava L'uomo cercava Di capire Perché esistiamo Che cos'è il sole Cioè quello che fate voi con il cerbero È espressione Cioè voi ogni giorno portate delle vostre tesi qui davanti Da dibattere o comunque raccontare ed esprimere alle persone Che in verità le persone potrebbero fare altro in quel momento Ma in verità sono qui per passare il loro tempo assieme a voi Per addolcire questa perdita di tempo Portando cose che possono essere divertenti A volte invece culturali Perché è quello che fate Scegliete anche pure la tipologia di punto dove volete andare Come ora Noi stiamo parlando di cose interessanti Allo stesso tempo stiamo pure cazzarando Certo Pesantesse e leggeresse Pesantesse e leggeresse Leggeresse Se vuole chiudere anche Mary Vai I social e i videogame Sono nel mondo moderno Secondo me Il modo migliore per viaggiare Per chi non se lo può permettere Cioè da sempre Il problema della ristrettezza mentale Deriva dal non viaggiare Perché non conosci persone diverse Da quelle del parchetto sotto casa tua E nei videogiochi Sei costretto a interagire con persone Che vivono dall'altra parte del mondo Nei social probabilmente ti imbatti in persone Che la pensano diversamente a te Che hanno un bagaglio culturale diverso dal tuo E quindi senza poter Certo è sempre meglio Poter andare a New York Però se non c'hai i soldi Per andare a New York Magari parlare Sui social O giocare insieme A una persona Che vive a New York Ti può far capire un po' Quello che succede lì E secondo me Questa cosa Almeno io personalmente L'ho sentita molto Nella situazione in Ucraina adesso Cioè Io Quando È stata attaccata all'Ucraina Mi sono reso conto Che conosco proprio bene Persone Ucraine E ho detto Cazzo ma Questi Come stanno? Che è successo? Empatizzi molto di più Rispetto A se succede A persone con cui non hai mai interagito In vita tua Cioè Secondo me Non è da sottovalutare Questa cosa Detto questo Ci sono criticità Ma credo che Siamo molto più bravi noi A capire Cioè Io Paolo Insomma La gente che sta dentro il gaming Non credo abbia difficoltà A stilarti Una serie di criticità Dei giochi Dei videogiochi E tutto il resto È che secondo me Loro proprio non sanno Di cosa stanno parlando Cioè Le battaglie che fai tu Che dovrebbero essere Le battaglie reali Loro proprio Non conoscono neanche il problema Certo Cioè io ad esempio Posso dire che Da quando ero adolescente Ad oggi Ho imparato l'inglese Grazie al web O che ne so Ho affinato La mia cultura musicale Perché cercavo canali Che parlavano di quello Cioè sono diventato Una persona migliore Più colta anche Grazie a come Ho utilizzato il web Da quando sono piccolo Fino a mo' Non penso mi abbia fatto male Non troppo Non troppo La cosa che diceva Sui viaggi È interessante Perché Eh sì L'apertura mentale Anche di interfacciarti Con persone Dall'altra parte Del mondo È una cosa che spesso Ho detto del cinema È visitare O mondi Immaginari O Una Diciamo Una sorta di Romanzo Di alcuni mondi reali No La versione romanzata Di alcune Città reali Il cinema un po' Mi ha permesso Di viaggiare Per lo meno Con la fantasia Questo l'ho d'accordo Però Meliador Tu ti sei un po' Sbugiardato oggi No Da solo Nel senso La skin Si è conclusa Abbiamo capito Che sei un'intelligenza Artificiale E che quindi Sei di parte E verrai distrutto Sei sti due Quadrati Sti due atomi Pure l'esempio Del cinema Ora il cinema Sta entrando tantissimo Nel mondo Videoludico Anzi pure come si Creano Le parti Proprio cinematografiche All'interno Di un videogioco Addirittura la regia Che ora viene affidata E la sceneggiatura A grandi scrittori O in questo caso Anche a registi Che hanno collaborato Nella creazione Di videogiochi Proprio perché Sono dei media Che si possono incontrare E senza nessuna pretesa Cioè il gioco Io una cosa Che voglio spiegare È che il videogioco Non arriva con nessuna Pretesa alle persone A parte i pay to earn Di videogiochi Nessun gioco Arriva con la pretesa Di diventare Una tua costante Nella tua vita O di fare qualcosa Quello è sempre L'utilizzo che ne fai tu Ovviamente Poi anche il discorso Di dire il web È talmente generico Che non ha senso Perché anche nell'ambito Del solo youtube Dire io seguo youtube E già è genericissimo Perché uno può dire Sì ma cosa Canali di videogiochi Canali di cucina Di intrattenimento Così come il discorso Il web è Una selva immensa Che non ha Non ha senso Definire soltanto così In maniera assolutistica Bisogna capire Che è Una serie di C'è Proprio ci sono i meandri Di ogni ambito Della conoscenza Ed è anche Del cazzeggio Di cose che effettivamente Dovrebbero essere evitate Ma che poi uno va a selezionare Quindi Lascia il tempo Che trova Una serie di affermazioni Che lasciano il tempo Che trovano Proprio per la loro Eccessiva genericità E la generalizzazione Porta sempre A conclusioni sbagliate Secondo me Raiden Sarebbe corretto Anche leggere il libro E sviscerarlo per bene Perché comunque Da una parte Possiamo anche dire Vabbè I tempi radiofonici Una comunicazione Di un certo tipo Se poi nel libro Vengono riconfermate Delle cazzate Il danno è più grave Però Sai Sappiamo i tempi Quali sono In tv Anche la volontà Di far arrivare Messaggio forte Sì Quello che dicevamo prima È il trigger No? È che non voglio dare successo Alla marchetta Io Eh lo so Però per demolirlo Magari Ma tra l'altro Io voglio pensare Che gli psicologi E tutte quelle figure Professionali Che lui ha nominato E che sono riportate Nella descrizione Abbiano quantomeno Pensato Caspita però Questa presentazione Che ha fatto Non rende giustizia Al lavoro che abbiamo fatto E quindi magari Poi nel libro Andiamo a leggere Delle cose Dei pareri Che effettivamente Sono più autorevoli E sicuramente Più approfonditi E circostanziati Di quanto non sia stato Il suo intervento Al Tg1 Sì Secondo me comunque Piratare questo libro Sarebbe Un bellissimo Contrappasso Giusto Gesto rivoluzionario Direi C'è sta Sì sì Arrivato Le scan Sì Volevo chiedere solo Una cosa a Giorgio Poi se non avete altre domande Possiamo chiudere Mi stava interessando Quel discorso Vabbè questa è una mia Cazzatina classica Però Tra cinema e videogiochi Mi fai qualche esempio Cioè perché ad esempio Io so che Vai vai Gielmo del Toro Abbiamo visto collaborare Assieme a Hideo Kojima Per Death Stranding Ma anche per Quello che doveva essere Silent Teals Per Silent Teals P.T. dovevano collaborare assieme Tra l'altro assieme a Norman Reedus Poi abbiamo visto George R.R. Martin Che si è occupato Della parte di lore Quindi Della parte Della storia di Elden Ring Ma non solo Call of Duty È da tantissimi anni Che prende sceneggiatori Di Hollywood Per la campagna Single player Anche attori Anche attori Vabbè ricordiamo Game Spacey Uno dei cattivi Dei villain Più fighi mai fatti Però Se noi torniamo indietro È da Black Ops 2 Che Activision Si affida A registi O sceneggiatori Per fare le proprie campagne E infatti Gli puoi dire Quello che ti pare A Call of Duty Magari ti può pure Non piacere come gioco Ma le campagne Single player Sono incredibili Ma Black Ops È quello che c'era Gli zombie Si pure Si anche Che infatti Hanno le citazioni di Romero Perché Romero Stavo per dire Ma la cura di George Romero Allora Un DLC È stato fatto da Romero Che è stato messo anche Come boss Tra l'altro Romero Romero girò Lo spot Di Resident Evil 2 Della Playstation Della Playstation 1 Negli anni 90 Oppure Lynch Fece lo spot Per la Playstation Non mi ricordo Ma in realtà Se la tua Se la richiesta di Marra Era capire Quali sono gli ambiti Cioè quando si toccano Videogiochi e cinema In realtà Possiamo risalire Per esempio Anche al 1997 Con Black Dahlia Che era un'avventura grafica In FMV Cioè con filmati Da film Diciamo Con Anthony Hopkins Come protagonista Oppure ancora Blade Runner Il videogioco Che non aveva Le controparti reali Perché non avevano i diritti Questo sempre Nel 1997 Ma aveva i doppiatori ufficiali E comunque Aveva delle scelte morali Che riportavano Alle Diciamo Alla discussione Sui replicanti Che si faceva nel film Quindi anche La scelta da parte nostra C'è una letteratura E c'è un ambito Cioè nell'ambito videoludico I film Che sono stati trattati Nei videogiochi E viceversa Anche se in quest'ultimo caso Non è stato mai Così foriero Di belle cose E sterminate Ci sono un sacco di cose E ti era storico Che era il gioco peggiore Ma creato C'era il film Un altro esempio Che si può fare ragazzi È l'Ureal Engine 5 Cioè ormai viene usato All'interno del cinema Per ricreare tutto in CGI E l'Ureal Engine Parte dal mondo del gaming Parte dal Prima di cosa Dai render Poi arriva il gaming Con lo sviluppo del gaming E ora è nel cinema 99% della CGI Viene fatta in Ureal Engine Vi voglio fare una domanda specifica Visto che Sono comunque Mezzi diversi Con linguaggi diversi Ok? Anche per lo spettatore Nel cinema di animazione Frequentemente Stanno cominciando Ad utilizzare Le stesse Più o meno Le stesse regole Registiche Che applicano Ai film in live action Esempio Sicuramente Mediator lo sa In Arcane Ci sono molte sequenze La serie Che è un'animazione Ci sono molte sequenze Che hanno una sorta di Simulazione Dei movimenti di macchina Avviene anche nel videogioco O per natura Diversa Anche dell'approccio Magari del giocatore Per un discorso Di monitor Poi vabbè Ovviamente dipenderà Da gioco a gioco Viene fatto la stessa cosa Io ho visto la realizzazione Di alcune cutscene Per alcuni videogiochi E è fighissimo Vedere come hanno Proprio i nomi Delle telecamere Proprio come i nomi Delle telecamere reali Quindi quelle con il braccio Presente quelle lì Che spinna praticamente Il braccio Ah no Esattamente No no È quello Come si chiama Quello per fare Quelle riprese Dove è il braccio Che fa una stessa sequenza Identica Nello stesso punto Hanno le stesse cose Dice le crane Live Perché a me sembra Che pure tu L'hai comprato E quittato come me Sì Quale? Death Strand Ma io sarei curioso Di vedere Marra Ma Blender È pesante Cioè te lo giochi Per la storia Ovviamente Guarda Molto bello Infatti Non me lo so Mai spoilerato Carcola Perché volevo Finirlo Sono passati due anni Ma qual è il videogioco Io non so come eseguito Dove c'è Nicolas Winning Regista Regista di Drive Forse sai che è proprio Death Stranding? Eh mi sa che è lo stesso Mi sa che è Death Stranding Cioè fa tipo una piccola parte Sì c'ha gli occhialetti Io avevo visto Sì Ah non come regista Ma che appare Come appare Sì che appare come personaggio Ah ok Ok sì Perché tutti i personaggi Death Stranding In realtà sono attori reali Che sono stati Diciamo Digitalizzati Sì 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 E mi pare ci fosse pure Death Stranding Comunque un altro collegamento forte Anche con la musica Cioè soprattutto la Riot Lo volevo dire io Era il mio prossimo argomento Vai Meli Ok Soprattutto la Riot Nell'ultimo periodo Sta Legando a doppio filo Il gioco Con La musica Cioè ad esempio In Arkane C'è tutto Perché c'è il cinema C'è il gioco E c'è la musica Addirittura Gli Imagine Dragons Sono dei personaggi All'interno Della storia Per un momento Lo ricreati in animazione Ma addirittura Esatto La Riot Ha creato La prima band Virtuale Cioè Sono dei personaggi Di League of Legends Che hanno una band E fanno delle canzoni Che vanno un botto Soprattutto in Asia Sì vabbè Ma non dimentichiamo anche Che la so Travis Scott Che ha fatto il suo concerto Dentro Fortnite Cioè Bellissimo In realtà Ripeto Andiamo ad affrontare Un ambito Che è sterminato E che affonda le sue radici In realtà Anche a 25-30 anni fa Ovviamente Con mezzi diversi Però il videogioco Adesso tende molto Ad essere cinematografico Ma già da un po' di anni Quindi sì Assolutamente Rispondendo a Marra Sì Il videogioco risponde A certi crismi A certi criteri Che sono più Finora stati intesi Come più consoni All'ambito del cinema Ma da un po' di tempo Ci sono giochi Di 30 anni fa Adesso magari Ingiocabili O comunque molto datati Che hanno però Delle musiche immortali Che la gente Se le può Ancora Perché ai tempi Cioè Fare il compositore Per un videogioco Nonostante i limiti Imposti dalla poca memoria E quindi i suoni Dovano essere molto semplici Ma permetteva Secondo me Al compositore Poteva il cazzo Che gli pareva A livello musicale Basta che pensiamo A Uematsu In Final Fantasy Che ha creato Mio maestro assoluto Trepitose A cui poi si sono ispirati Sakimoto Si sono ispirati Un sacco di altri Suoi adepti Diciamo Sempre in Final Fantasy Che poi hanno fatto successo Anche altrove E poi se parliamo Se parliamo di musica cinematografica O di videogioco Inteso come Mood cinematografico Non possiamo Non citare la serie Di Metal Gear Solid Tra l'altro Con le musiche Di Harry Gretchen Williams Una ha scritto Song 2 De Blur in FIFA Non ci ha capito un cazzo Ci ha capito un cazzo Sì c'è stava Qua la canzone a FIFA Vabbè Che va dal bagno Scusate I Ciamma Wamba In World Cup Io vi voglio fare un esempio Di stile cinematografico Ed è Halo Infinite Per chi l'ha giocato O chi è fan Comunque della saga Dove Halo Infinite Tutto il gioco Tu sei dentro il casco Del protagonista No? Quando c'è il filmato Eh sì è un pov Praticamente Però quando c'è il filmato La cosa bella è che Hanno fatto questa gestione Di camera Che esce dal casco E hai sempre Una singola inquadratura Senza tagli Quindi tutto il mondo Viene ricreato Completamente intorno a te Rimane lì fisicamente E questa camera Che gira Come può essere Un 1917 No? Quindi con questa camera Che è sempre lì Fissa Ok tu intendi Intendi piano sequenza Piano sequenza È un piano sequenza Continuo Dove poi tu il prendi E la camera rientra Dentro al casco Sempre fatto in questo modo Ogni singolo filmato E l'espediente È molto bello È molto bello visivamente Cioè io quando l'ho visto Ho fatto cavolo Però che figata così Cioè vedevo delle cose Che non vedevo io Quando giocavo in prima persona E secondo voi Non facevo caso Questo tipo di Linguaggio Che ripeto È evidentemente adatto Al cinema Per varie motivazioni Funziona Sui giocatori O preferiscono Quello più standard? Tantissimo Funziona tantissimo Funziona tantissimo Ci sono dei Ci sono dei videogiocatori Che sono portati A pensare a quel gioco Come bellissimo Proprio perché Molto spesso Si fanno infatuare Si lasciano infatuare Dalle sequenze Dalle cinematiche Dalle sequenze cinematografiche Quando poi magari il gioco Sai A livello di gameplay Non ha così tanto Però Ti lascia tanto Proprio per le sequenze cinematografiche E lo fanno vedere Come un giocone Per cui è stato speso Un budget Enorme E Quando poi di fatto Poi come gameplay Magari ci sono anche Titoli migliori Non sto parlando Nella fattispecie De The Last of Us Che è comunque Un bel gioco Anche come gameplay Però in generale Ci sono delle esperienze Molto cinematografiche Che lasciano tanto Al videogiocatore E che alcuni Per esempio Vedono più Come dei Delle esperienze Poco giocabili Ma che in realtà Sono tanto curate Dal punto di vista Scenico Per quanto mi riguarda Death Stranding Per me è stato così Death Stranding È un po' così Cioè sarebbe Non ci ha giocato Per molto tempo Perché non mi è piaciuto Il gameplay Bravo Io volevo arrivare Dopo tutte queste domande Del cazzo Maris Che proprio al punto Se il passaggio Dalla fotografia Al cinema È stato dovuto Al montaggio Quindi la differenza È quella Ovviamente Tra cinema E videogioco C'è il gameplay Quindi La mia domanda era Tentando di replicare Quei linguaggi Che servono Per una sorta Di immersione Passiva Anche se attiva Mentalmente Però passiva A livello di Interazione Fisica Del giocatore Non si viene Anche a Un po' Snaturare L'essenza Del videogioco Stesso E il streaming Giusto Questo era il dubbio Mio No è vera Questa cosa E può non essere Apprezzata Infatti Ci sono delle categorie Più adatti Per questa cosa Come i cosiddetti Storytelling Per esempio I giochi Della Telltale Secondo me Sono Sono perfetti Tipo Un Wolf Among Us Per me Stanno i titoli più belli Cioè Vedere Cenerentola Che fa la puttana Io ci sono rimasto Con tutta la sua storia Si drogava Stavo là Tipo Mio Dio Che cazzo sto vedendo Anche un Antildone Stavano dei giochi Avventure interattive A binario Con più Insomma Con più Risivolto Che alcuni Non apprezzano Proprio perché Si gioca poco Magari Però effettivamente Sono molto Insistono molto Sulla controparte Cinematografica Che ha Una Una grossa presa Su Una larga fetta Di pubblico Una grossa fetta Di pubblico Ma ha giocato Antildone Allora devi giocare Devi giocare Little Hope Cioè veramente Alla Shutter Island Little Hope Quale? Little Hope Oddio No ragazzi Quello Devastante Lo faremo Ogni Ogni sei mesi Lanciano un capitolo Horror Tra virgolette La saga Di Vabbè Comunque sia una saga Curata da Bandai Namco Che effettivamente Non è sviluppata Da Bandai Namco Però Si è molto Cinematografica Le azioni da fare Sono veramente risicate Però piacciono tanto Ma anche la serie Di Life is Strange Insomma c'è tutta Una sottocultura Per questo genere Di giochi Che ha avuto Una buona presa Sul pubblico E non soltanto Il pubblico Che apprezza il cinema Anche giovanissime Che per esempio Non frequentano molto il cinema Non hanno visto molti film Però si ritrovano Anche in questo modo Di giocare E di veder raccontato Una storia In questa maniera Quindi si Cioè c'è una pluralità Di mezzi Con cui il videogioco Arriva al pubblico Anche perché Non devi essere Particolarmente bravo Per giocarci Ma io non so Che è la tua Capito Secondo me Questo tipo di giochi Riescono a Distaccarsi Prepotentemente Dal pvp Cioè Attualmente Chi ama Il gameplay Va sempre più Verso il pvp Magari E invece Il pvp Ti permette Di caratterizzare Meglio la storia Appunto Ti permette Di avere questi Momenti di pausa In cui tu puoi goderti Queste scene Che cinematografiche E quindi Secondo me Tendono anche A spingere su questo Per dare Un'alternativa Valida Insomma Non è Non è una contrapposizione Pvp Contro single player In quella maniera Ci sono tanti altri giochi In single player Vedi per esempio Elden Ring Recentissimo Che ti danno Un buon livello Di sfida Anche essendo In single player Avendo anche Una storia di fondo Narrata Seppur Anche con tanti parti Non narrate Non palesate In maniera pedissequa Quindi attraverso La lore Lo conosciamo Non è una netta Contrapposizione Pvp Multiplayer Contro Single player Esperienza Walking simulator È molto più spesso Un modo Di vedere Il videogioco Che si inscrive In quella pluralità Di giochi Anche single player Che hanno Una fruibilità Diversa A seconda appunto Del tipo Del genere Videoludico In quel caso Parliamo di esperienze Più cinematografiche In cui è richiesta Però una dose Non eccessiva Ma comunque presente Di interattività E quindi È un modo Di vedere il videogioco Anche in single player Non necessariamente In contraposizione Col competitivo Col pvp Certo No grazie Erano delle mie curiosità Tra l'altro Mi è venuta in mente Un'associazione Devastante Un buon libro E quelli che all'epoca Erano i libro game Vi ricordate? Bellissimi Sì È tipo I giochi della Telltale Alla fine Dei fare le scelte C'era una sorta di Interattività Diversa dalla Passività Ma attività Magari Creativa Durante la lettura Era un libro Che ti diceva Passa la pagina Cioè se vuoi fare questa scelta Fai la pagina Lupo solitario Era la collana Che bella C'ho perso Gli anni Io avevo anche Di Asterix e Obelix Ragazzi Il gioco di Asterix e Obelix Voi lo potete giocare Tranquillamente Secondo me Vi divertireste Dura quanto? Un dieci ore? Detroit Become Human? Non è lontissimo Come gioco Comunque sono scelte Sociali Culturali Politiche Molto bene E poi è molto cinematografico Vabbè Tutti i giochi di Quantic Dream Anche Heavy Rain Beyond Two Souls Insomma Faranite E quelli sono stati Sempre anni avanti Comunque Sia col gioco in sé Sia con la grafica C'è una cosa mostruosa Comunque Devo fare retta Non sono mai riuscito a trovarlo Quello è pesante Quello è proprio pesante Cioè L'inizio così Cioè Tu vieni buttato in un mondo E ti ritrovi Che ci sei tu Dentro sto diner Pieno di sangue Con un tizio sgozzato Davanti a te in bagno Inizio della storia Cosa fai? C'è la polizia fuori dal bagno Panico Ragazzi Allora Io direi che C'è stata un'ottima discussione Grazie mille Ai nostri ospiti Top live Secondo me Quindi ringraziamo Il bot Melia bot Grazie Grazie Melia bot Giorgione Power Ovviamente Qui Di moderatore Adesso Daranno anche I vari link Grazie mille ragazzi Top live Un piacere Buona continuazione ragazzi Buon divertimento Ci si becca alla prossima Alla prossima Ciao Power ora Grazie Grazie a Power Facciamo un pass Alla prossima Però voglio di tratto Bigomio M'hanno fatto da voi E poi confrontiamo le scelte Dai regà Che pari Parliamo Bella Ciao ragazzi Ciao 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 Noi rimaniamo un attimo Per dire Ma è stonato Con quel terminato C'è una cosa Molto importante Da dire Ore 21 Confronto in diretta Con Big Luca Ma ce l'ha partito E sti cazzi Il derby Ma è sti cazzi E sti cazzi Il derby Di Milano Ma noi che cazzo Ce ne frega Fuori il calcio Dalle nostre live Fuori il calcio Ma non vedo Davide Io ho dormito due ore Ragazzi Sono un po' traumato Ma la fa un pisolino Vai regà Ci vediamo stasera Alle 21 Non vedere la partita Tanto sti cazzi Il calcio Milan Ottimo Milan E poi vedremo Questa cosa La dico tanto per Vediamo se riusciremo Ad andare al concerto Di Diego Nasca E Panetti Perché Eh Stesso La live C'è stai 9 Il concerto L'ora è 9 e mezza No è 9 Anzi Hanno detto di stare là Alle 20 e 45 Addirittura Addirittura Quindi proprio Mi sa che Arriveremo alle ultime tre note Va bene Mannaggia A stasera ragazzi Ciao A dopo Ciao ragazzi Che squali State arrivare E' la Crocia Ciao Scusi in spedrello! Scusi in spedrello! Scusi in spedrello! Scusi in spedrello! Mi sembra assurdo! State pure registrando! Tu caccia di me ascolti tutti al bagno! Come l'hai fatto?